Grazie a tutti. Vi potete invitare a fare alcune azioni, ve le propongo, poi voi deciderete se farle o meno. La prima è quella di seguirci sul canale Telegram, chiocciolina Occhi nella Notte, dove posterò tutte le informazioni, tutte le news, eccetera, eccetera. Telegram è gratuito ed è molto più sicuro di Whatsapp. Quindi se siete su Whatsapp, abbandonate il gruppo Whatsapp e venite qua su Telegram, sì, e mi farebbe molto piacere avervi lì con me. Poi potete naturalmente iscrivervi al canale attivando la campanella perché il 98% delle persone non riceve assolutamente la notifica che io ho caricato un nuovo video. Quindi per essere sicuramente, come dire, avvisati Telegram oppure iscrivervi al canale, quello sempre, attivando anche la campanella in maniera tale che vada tutto liscio come l'olio. L'ultima cosa che potete fare è che potete aiutare su Produzioni al Basso e lo state facendo tuttora, vorrei che aumentasse un po' di più. Sotto trovate tutti i link, cliccate sopra i link e andrà tutto per il meglio. Anche i link di Produzioni al Basso lo trovate giù. Sta suonato il campanello, in anteprima vediamo chi è, perfetto, è Giulia. Giulia mi ha mandato un messaggio su Instagram. Grazie Giulia, tanto tu sai che conosco tanto di Giulia, ma la mia Giulia è una sola. Ciao a tutti, ciao ciao. Buonasera a tutti, io sono Angelo Marotta di www.angelomarotta.blogspot.com. A questo punto dovresti essere già iscritti al canale Telegram, visto che hai già fatto l'invito. Siamo già a 120. In pochi giorni siete aumentati i 40 persone. Grazie. Grazie. Prima di iniziare la puntata vorrei ricordare la nostra amica che proprio ieri è venuta a mancare, Paola Palazzini, che ricorderemo sempre nel nostro cuore, è sempre stata una persona che, almeno a me, ma anche a Daniela, a Riccardo, a tutti gli altri, ci ha sempre seguito, a Luca. Ci ha sempre fatto i complimenti, ci sosteneva, eccetera, eccetera. Quindi ci mancherà, la Paola ci mancherà sempre. Bene. Non sono molto bravo nel ricordare le persone, ma soltanto lei capirà, mi conosceva, quindi tra l'altro l'ultimo messaggio in cui siamo sentiti, io e lei abbiamo anche litigato, senza possibilità di far pace. Questa cosa me la porterò sempre dietro. Va bene. Bene. Stasera con noi, visto che la puntata scorsa vi è piaciuta tantissimo, non so se è dottore, ma io lo chiamo dottore perché io chiamo dottore tutti, il dottor, sei dottore? Sì, ma è secondario. Ah, vabbè, sì, il dottor Trin, 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 lo posso dire con il nome? No, no, vabbè, il dottor Daniele Trincheri che l'altra volta ci ha fatto una dettagliata ricostruzione, diciamo, della storia di Zodiac. Se non l'avete vista, alla fine di questo video troverete il link per andare a guardarla e iscrivetevi al canale perché tanto vi mando anche lì gli audio del dottor Trincheri. Va bene? Quindi, buonasera Daniele, noi ci diamo del tucco, l'altra volta, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te. E niente, stasera come avete visto dall'anteprime che ho messo sul tubo, su Facebook, su Instagram, anzi seguitemi anche su Instagram, parleremo, anzi ci parlerà perché poi alla fine è lui che parla sempre al posto mio e fa anche bene perché non saprei spiegare meglio. Stasera parlare dei collegamenti che secondo lui, ora io poi vi dirò la mia alla fine, secondo lui ci sono con il mostro di Firenze e il serial killer americano Zodiac, secondo lui ci sono dei parallelismi, insomma avete capito cosa voglio dire. Ci sono dei collegamenti e stasera ce ne parlerà e anche delle lettere, faremo riferimento anche alle lettere che Zodiac mandò durante il suo operato omicile. Daniele ti lascio il microfono, fai come se fossi a casa tua, i nostri ospiti sono sacri, quindi ti lascio il microfono, se c'è qualcosa poi ti chiederò. Grazie mille Angelo, grazie ancora dell'opportunità. Io in realtà questa sera volevo chiarire determinati aspetti che per questioni di tempo fondamentalmente sono rimasti un po' accantonati l'altra volta, ma bene o male sono questioni riguardo alle comunicazioni, alle lettere e alcune anche importanti, soprattutto l'altra volta io non ho parlato del profilo psicologico di Zodiac, in realtà è una cosa che ho un po' messo da parte e perché comunque è un argomento da professionisti e perché poi fondamentalmente, come si è visto l'altra volta, la questione non è affatto lineare, è anche abbastanza complessa perché siamo davanti a un serial killer che ha sicuramente una questione aperta, un'ossessione, una compulsione verso le coppie, questo è innegabile, anche perché lo ricordo, i primi tre attacchi sono ai danni di coppie appartate e è fondamentale fissare questo punto. Un altro punto che è facilmente comprensibile, però comunque non mi sono soffermato, è che risulta essere un serial killer ossessionato dalla celebrità. Lui dava grandissima importanza al risalto mediatico che potevano avere i suoi crimini. Ora, l'altra volta, abbiamo parlato, se ti ricordi, dell'omicidio di San Francisco di Paul Stein nel 1969, che poi, altro non è che l'omicidio che rompe lo stemma di Zodiac, perché molto spesso, io questa sera, faccio un piccolo spoiler, lo dico prima, mi ricollegorò al mostro di Firenze. Una delle obiezioni che si fa molto spesso tra gli appassionati del caso, diciamo, è che Zodiac non uccideva solo coppiette. Questa l'avrei sentita mille volte. Sì, sì, sì. In realtà, come concetto, va affermato che Zodiac era un cacciatore di coppiette, calibro 22, coltello, a breve farò rivedere gli appunti che prendeva Gray Smith su Zodiac e come lo descrive, oltre agli appunti del già citato Leonti Thompson, quindi un cacciatore di coppiette. Effettivamente, l'omicidio di San Francisco, 11 ottobre 1969, Paul Stein, la vittima è un tassista di 29 anni, quartiere altologato di San Francisco, sì, siamo in un weekend perché è sabato sera, però effettivamente è un omicidio fuori contesto. Io adesso vorrei soffermarmi su un punto che soprattutto viene trattato nel DVD di Zodiac, anche per chi è interessato, se lo può andare a vedere, nel DVD del film di Fincher del 2007. Che ho visto l'altra sera, devo dire la verità. Perfetto. Mi sono andato a riguardare, aspetta che mi metto a video anche a me perché pare brutto parlare così, che tra l'altro io avevo già visto, mi sono andato poi a riguardarmi tutti gli omicidi, però in realtà, sai bene a cosa mi riferisco, sono andato subito a guardarmi quello sull'ago Beressa, che mi ha messo una certa ansia, devo dirti, anche se pur sapendo che erano degli attori davanti a me, ma insomma mi ha... La freddezza, la freddezza di quel delitto è fuori dal mondo. Ok, allora, nei contenuti speciali c'è una psichiatra forense che parla di Zodiac, che parla dell'omicidio di San Francisco. Lei accenna il fatto che quell'omicidio potrebbe essere... Ti interrompo, ti interrompo un attimo, stai dicendo che nel DVD ci sono delle interviste... Dei contenuti speciali. Ok, tra cui l'intervista di questa... È una psichiatra forense che lei... Nel DVD, allora lo devo comprare, ma è sottotitolato anche in italiano o è solo in inglese? Io l'ho ascoltato in inglese, però probabilmente ci sono sottotitoli, non so se nei contenuti speciali, però l'ho ascoltato in inglese. Vabbè, ok, sì, di solito ci sono. Allora lo vado a comprare subito. Prendi Blu-ray se c'è, no? Come motivazione all'omicidio di San Francisco, che è quello, lo ricordo, che rompe lo schema, un aspetto mediatico. Cioè, secondo lei, quell'omicidio è stato compiuto da Zodiac più per una questione mediatica che per un vero e proprio interesse alla vittima. Vorrei far vedere una cosa, Angelo, quindi se non ti spiace parto con la condivisione dello schermo. Ti farai finta di essere a casa tua, in realtà lo sei. Ti ringrazio moltissimo, Angelo. Allora, partiamo. Posso condividere, sì? Certamente, certamente. Allora, intanto, ecco qui. Io l'altra volta ho fatto vedere questa. Che altro non è che la mappa degli omicidi al 7 agosto 1969, quindi prima dell'omicidio di Zodiac che avverrà qualche mese dopo, a San Francisco. Quindi, Angelo, l'abbiamo già detto, sono tanti. L'omicidio di Zodiac avviene qua, comunque, per curiosità, insomma. Però, come vedi, sono tanti. Questo è un passaggio anche che viene detto nel film, se tu ci fai caso. C'è l'inquadratura del taxi dall'alto. E viene detto che Zodiac colpiva solo in provincia. Cioè, nelle cittadine era una sorta di... Là, viene usato il termine, è una telefonata che dice No, ma noi di città stiamo tranquilli perché lui ammazza solamente nelle campagne, diciamo così, no? Quindi torna alla città. E effettivamente c'è da riflettere su questo punto. Perché è vero che gli omicidi, i primi, lo ricordiamo, sono a Vallecco, i primi due, e a Lake Beriesta, quindi a Napa. Una domanda, una domanda che... Scusami, ti interroppo così a rotta di collo, a me non ti faccio lo scambetto. Secondo te... Allora, naturalmente lavoriamo per ipotesi, ci mancherebbe, però insomma non ne sto sto dicendo di dire la realtà dei fatti. Secondo te l'assassino di quale città era? Angelo, questa è una bella domanda. Allora, i fatti sono che lui uccide le prime due volte a Vallecco. Sì, però, facendo riferimento a questa cosa, si dice che i serial killer si allontanano sempre più di caso o è il contrario? Perché non mi ricordo se cominciano da lontano e più si avvicinano o più iniziano da vicino e poi si allontanano. Guarda, visto che l'ho citato l'altra volta, Ruggero Perugini, sempre nel libro, ricordo del 94, un uomo abbastanza normale, lui sostiene che l'ultimo delitto del mostro è stato fatto a un passo da casa sua. Questo lo sostiene Ruggero Perugini. Ruggero Perugini comunque di formazione era il cosiddetto uomo di quantico, no? Sì. Quindi questo è molto interessante, perché solitamente si dice che i serial killer cominciano in luoghi in cosiddette zone comfort, mettiamola così, quindi luoghi che conoscono bene, e poi acquistano mano a mano sicurezza e si allontanano. In realtà, Perugini diede del mostro ebbe una visione contraria, cioè nel senso l'ultimo omicidio fatto accanto a casa del mostro, molto vicino alla sua abitazione. È interessante, secondo me, essendo gli attacchi ufficiali poi fondamentalmente quattro, e avvengono nella North Bay Area, e poi, come detto l'altra volta, viene fuori un omicidio a Riverside, e parliamo quindi di California del Sud, perché Riverside è vicino a Los Angeles. Soprattutto, l'altra volta non l'ho detto, ma ci sono omicidi che sono molto, molto sospetti, addirittura prima del 1966. Sto parlando, per esempio, del Domingo Edwards del 1963, che è un omicidio avvenuto a Gaviota, una spiaggia vicino a San Diego. È stata attaccata una coppia e c'è il dettaglio delle corde, perché praticamente cercò l'assassino di legare i ragazzi, un po' quello che poi succederà sei anni dopo a Lake Beriesta. E questo, per esempio, è molto sospetto. Quindi, Angelo, se questo soggetto, Zodiac, effettivamente ha colpito a Riverside, quindi California del Sud, a Vallego, California del Nord, a San Francisco, California del Nord, a Napa, California del Nord, secondo me è difficile. Guarda, ti posso fare un parallelismo volante. Il Golden State Killer. Se vuoi, puoi interrompere la condizione dello schermo, così almeno ti vedo. Ok, allora, il Golden State Killer. Allora, come sappiamo, è stato catturato nel 2018, quindi sappiamo chi è. Lui anche colpì in California del Sud, California del Nord, Terrorizionale California. È stato un seriale terribile. Questi coincidevano con spostamenti. Lui era un poliziotto. Joseph Di Angelo, sto parlando, penso che le notizie sono arrivate anche in Italia. È stato, tra l'altro, il primo caso che ha dato il via alla genealogia forense. Tra l'altro, l'altro giorno hanno risolto un caso con il DNA del 1959. Siamo dieci anni prima di Zodiac. È un caso molto, molto vecchio. È stato risolto col DNA. Di Angelo è stato il primo. Lui colpiva California del Sud e California del Nord e in realtà questo coincideva con i suoi spostamenti lavorativi. Zodiac, però, Angelo, non è una scia lunga come quella del Golden State Killer. No, certo, certo. Con quattro attacchi, quindi, secondo me, è difficile danno una collocazione. Anche perché ci sono... No, pensavo ti fossi fatto l'idea. Non me la riesco a fare l'idea perché ci sono dei periodi di silenzio che io non mi spiego. Visto che il collegamento militare con Zodiac era molto forte, quindi, lo ripeto, l'ASA, American Security Agency, l'intelligenza dell'esercito, e il CID, stavano cercando un soggetto legato in qualche modo o militare o con esperienza militare. all'epoca c'era la guerra del Vietram, non era un periodo molto tranquillo, quindi ci sono dei periodi di buio con comunicazioni completamente assenti di Zodiac, sto parlando dal 66 al 69, sì, al 69, sto parlando dopo il 71, dal 71 al 74, sono dei periodi di buio. Allora, fino al 74 noi sappiamo che Zodiac non è morto, perché poi nel 74 ricompare. Esatto. Quindi sappiamo che non è morto, però perché non ha comunicato? Perché questo soggetto così compulsivo nelle comunicazioni non comunica? Qualcosa deve essere successo nella sua vita, Angelo, che è o lavorativa o privata, ma qualcosa è successo, che l'ha portato via dalla sua compulsione per le comunicazioni, perché poi nel 74 torna e poi sparisce di nuovo e per sempre. Angelo, una cosa importante è raro, è rarissimo. Si dice, no, ma ci sono dei seriali che hanno smesso. È vero. Tu conosci bene BTK, ne abbiamo parlato in privato poi. Sì, bene, lo conosco. Ok. Ti faccio l'esempio di Reda, Dennis Reda, stiamo parlando di BTK by Torture Kill, uno dei più terribili e famigerati. Sì, secondo me, io difficilmente lo tratto perché è stato uno dei più... Lui ha smesso, lui ha fatto una scia di omicidi violentissima e tra l'altro anche fuori controllo. Lui però ha smesso, per un periodo ha smesso e perché tra l'altro era un pastore della chiesa di Wichita in Kansas, quindi lui ha smesso, però quando poi, poco prima della sua cattura, perché ha fatto una stupidaggine clamorosa con quel flop, lui ha inviato un dischetto. Sì, ha chiesto prima se io vi mando il flop, vi arriva l'informazione. No, no, vieni, manda, manda. Esattamente, manda subito. esatto. Però lui, stiamo parlando degli anni 90, se non erro, lui stava, aveva già scelto la prossima vittima e stava per colpire di nuovo. Quindi, come vedi, aveva smesso per modo di dire. Lo stesso di Angelo, che è vero che non ha più commesso crimini perché era invecchiato, si era sposato, però, quando l'hanno catturato, ad esempio, il vicino di casa descriveva un uomo che non era assolutamente normale. Sfoghi d'ira clamorosi, spiava le donne del vicinato dalle finestre e ha minacciato la sua famiglia, la famiglia del vicino di casa, di scaricare un carico di morte sulla sua casa perché il cane abbagliava. Quindi, come vedi, non è. Ah, tra l'altro, telefonava alle vittime. Lui telefonava alle vittime e ti ricordi quando ci siamo visti? E questo stiamo parlando poco prima del suo arresto, fino agli anni 2000. Quindi, Angelo, come vedi, erano ancora in attività. Non ci sono stati omicidi, è vero, ma, vetti che di poco, Di Angelo continuava in un altro modo. Zodiac, che fine ha fatto? Cioè, questa persona... La cosa che io mi chiedo, magari, nel periodo in cui... Ora mi sei sparito, sai? Mi senti? Io ti sento e ti vedo perfettamente. Ok, anche io adesso. Stavo dicendo che è stata prende una considerazione l'ipotesi che nel periodo di silenzio, se lo vogliamo chiamare, Zodiac sia stato in carcere? Guarda, era uno dei capisaldi di Graysmith. Lui, riferendosi a Arthur Lee Allen, giocava un po' su questo fatto del carcere. Angelo, io lo ritengo improbabile, sinceramente, perché un Zodiac che finisce in carcere, secondo me, viene fuori. Ok. Io lo ritengo improbabile, però. Noi sappiamo sicuramente che ha avuto dei periodi di silenzio in cui non comunicava e 71-74, per esempio, non ha comunicato, 74-29 gennaio, torna, lettera del micato dell'altra volta, dell'esorcista, con tanto di citazione, però Angelo, quello sembra un addio. sembra un addio, anche perché quella è l'ultima lettera ufficiale di Zodiac, cioè non è ufficiale perché noi sappiamo che le ha mandate altre due, quella del cittadino e quella di un amico, quindi Badlands e la parola Kill. Sì. Però quelle non le manda come Zodiac, sembra quasi lettere personali, cioè dell'uomo, dell'uomo. Anche qualcuno mandò in Italia una lettera al cittadino amico in un solo botto. No vabbè, se doveva fare ricollegare. Lo affrontiamo fra poco. Comunque, è suggestivo, eh, senza mai dubbio. Angelo, parliamo di due casi, omicidi seriali di coppiette, calibro 22, coltello, a distanza di 13 anni dall'altra parte dell'oceano, c'è un cittadino amico. Se è una coincidenza, è una gran bella coincidenza. Anche perché... Sì. Sì. alla quarta coincidenza si comincia un po' a pensare, no? Nel senso, credo, no? Angelo, io, al di là di quelle che sono le mie idee personali, questa sera vorrei offrire dati come l'altra volta, con documenti alla mano. quindi quanto più oggettivi possibile, perché poi, sai, Zodiac, le interpretazioni, sì, si fanno, però abbiamo molto, abbiamo, l'hanno visto, e abbiamo tante comunicazioni, il mostro è molto più aleatorio in tutto, quindi, eh, io non voglio scendere troppo nelle interpretazioni, ma voglio far vedere dei parallelismi che secondo me possono essere veramente importanti. E, ok, se non ti dispiace, concludo il discorso che stavo facendo tu, San Francisco. Prego, 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 se vuoi. Prego, certo. Grazie. Allora, come detto, questi erano gli omicidi a San Francisco, e, ad agosto, ad agosto del, eh, 1900, adesso, aspetta che lo trovo, subito, e, dove l'ho messo? Ecco, Angelo, vedi subito, abbiamo un piccolo inconveniente. Vabbè, con calma, si tratta tutto. Eccolo qui, pardon, eccolo qui. Questo, Angelo, come vedi, domenica 10 agosto del, 1969, il San Francisco Examiner, quindi uno dei giornali, eh, dove Zodiac mandava le lettere, diciamo, uno dei punti di ricerimento, Guarda che cosa ha. Questa, chiaramente, è la storia di, eh, insomma, Manson, ecco. Come vedi, eh, le prime pagine le faceva Manson. Parlavano, certo. Esattamente. Questo, e secondo me non è da sottoludare come punto, potrebbe essere il motivo per il quale Zodiac, eh, uccide a San Francisco. Perché poi, Angelo, l'omicidio avviene pochi mesi dopo quello di Zodiac. Andiamo di ottobre, 11 ottobre, eh, due mesi dopo. Quindi, questo potrebbe essere un motivo, nel senso, io, eh, voglio, eh, la prima pagina. Voglio le prime pagine, nessuno deve sentirsi al sicuro con me. e lui era ossessionato, da questo punto di vista, dal rapporto con la stampa. Perché, Angelo, questo poi è un punto che, eh, viene poco dibattuto, ma in realtà, non è così, cioè, succede, succede, eh, che i serial killer, eh, parlino con la stampa, con, eh, la polizia. Però non è una cosa, non è una regola. Cioè, assolutamente non è una regola. E, quindi, eh, questo comportamento, che poi avrà anche il mostro, in maniera diversa, ma lo avrà anche il mostro, non è affatto scontato. E questo, secondo me, va rimarcato. E, come detto ancora, Angelo, ecco, questa è una curiosità del, relativa all'omicidio di, eh, San Francisco. 23 aprile 1970, aspetta, ecco qui. 23 aprile della sera, sì. Corriere della sera. Guarda come lo chiamano, Angelo. Il mostro di San Francisco. Il mostro di San Francisco. Quindi, come vedi, l'Eco, ecco, misterioso individuo, presubilmente uno psicopatico. L'Eco arriva anche in Italia, dove il nome, ecco, è piuttosto curioso. ok, io, eh, vorrei ricordare ancora il, mh, eh, il profilo che fece Leonti Thompson. L'altra volta ne ho parlato, se ti ricordi, era lo psichiatra forense. Sì. Che, in realtà qua, l'omicidio è, è già avvenuto. Questo è l'Osangelo's Times, Angelo, del, mercoledì, 15 ottobre del 69. Quindi, l'omicidio del, eh, Paul Stein, del tassista, è già avvenuto da pochi giorni. Però, eh, l'intervista, eh, è precedente, perché parla solamente, eh, fino all'omicidio di Lake Beriesta. Eh, Zodiac Killer, agghiacciante ritratto di follia. Come vedi qua, il dottor Leonti Thompson, eh, e fa ancora, questo lo ricordo, perché fra poco ci torniamo, gli omicidi avvengono sempre vicino all'acqua. Lo ricordo. Sì. Allora, anche l'idea del mostro. Eh, sì, possiamo dirlo, sì. Eh, io adesso vorrei farti vedere, anche questo l'aveva notato Graysmith. Allora, l'intervista di Leonti Thompson del 1969. Sì. E nota che gli omicidi avvengono, eh, vicino all'acqua. Questo è Graysmith, nel 1986, e come vedi, ho realizzato che tutti gli omicidi di Zodiac avvengono vicino all'acqua, intorno all'acqua. Cos'è l'attrazione per lui? Cioè, che attrazione ha l'acqua per lui? E qui Graysmith continua con delle cose molto interessanti. Molto interessanti. Ok, qua stiamo sempre nel, lui specifica che oltre ai nomi, eh, oltre ai luoghi, anche i nomi hanno accaduto. Sì, anche i nomi delle cose sono, sì, l'avevi detto anche l'altra volta, mi pare, no? esattamente, infatti, eh, lo salto, e poi Graysmith prende qualche appunto, qualche appunto sul, eh, sugli omicidi di Zodiac, quindi, le vittime, eh, erano giovani studenti, coppie. Coppie. Gli attacchi, eh, sono tutti avvenuti nel weekend, due vicino alle vacanze. Angelo, se ti ricorda qualcuno, interrompimi, Cicino, sì, arrivava un'altra monto, o di notte? Eh, no. Attenzione, rapina, molestie sessuali, non erano un motivo. Non erano un motivo, ok. Angelo, permettimi, eh, questa già è una similitudine molto importante, secondo me, tra i due casi. Cioè, il fatto che, però allora, guarda, c'è qualcuno, io tra l'altro, eh, non sono nemmeno d'accordo, che, aducevano al fatto che magari il mostro di Firenze potesse presentarsi come sorta di rapinatore, però poi in realtà non le rapinava. Però io voglio, voglio dire anche una cosa di questo, di queste informazioni, no, che ci vengono poi, eh, spadellate, come, come amo chiamarle io. Cioè, noi non sappiamo veramente se lui prendesse qualcosa o meno dalle borsette, dai portafogli, perché non sappiamo, noi non sappiamo cosa in realtà avessero i ragazzi qua, prima di morire, capito, hai detto, ma sul camioncino non è stato trovato niente, sul camioncino non è stato trovato niente, nella tenda dei francesi, in realtà, non è stato trovato nemmeno, non so come si chiama, i cosiddetti lumini per fare luce la notte, quindi non sono stati trovati, non l'avevano? beh, hai un pack in list di quello che c'è, di materiale che possedevano, no? No, ma io non volevo, ti stavo dando ragione, no, no, ma io, non si è capito, a me risulta che il mostro qualcosina ha sottratto le vittime, però, poi questo magari lo riferiremo in futuro, però a me risulta che qualcosa è sparito. In quale omicidio in particolar modo? Guarda, io, mi sembra che a Calenziano qualcosina è scomparso, e sono state trovati, c'era qualcosa di strano sulle scene, oltre al cosiddetto stessi, il fatto della borsetta che è stata ritrovata, poi, Stefania Pettini qualcosa non cava, eh, ma anche lì, anche lì si va, allora, io, per l'amor di Dio, poi non voglio assolutamente, poi non ti interroppo sul serio, ti lascio parlare, perché la gente ama sentire, anche il fatto della Pettini, io non lo so se è stato il manieco, nessuno lo sa se è stato il manieco a prendere, a portarla a 300 metri, potrebbe essere passato uno, un guardone, che l'ha presa, l'ha guardata e l'ha tirato, e magari qualcuno che l'ha vista, non volendosi immischiare in quel caso, perché tu sai benissimo, se chiami un poliziotto, la polizia, e dici ho trovato sta borsa, chi sei, chi non sei, Daniele Trincheri, vengono lì, e ti rompono le balle per tre giorni, tre, quattro giorni, allora, magari qualcuno ha trovato la vista secondo me è andata così, poi, poi che sia stata trovata l'altra roba, a me non mi sa che è dato di certo a nessuna parte, ma mi posso naturalmente sbagliare come qualsiasi essere umano, ci va anche a nebbia, prego, non ti dico per nulla, no ma sono obiezioni sacrosante, il punto è che, però poi, noi sappiamo per certo che il mostro era un cacciatore di trofei, Angelo purtroppo stiamo parlando di trofei d'altro tipo, sto parlando delle scissioni, però quello è comunque un comportamento che vuol dire che la stiamo davanti, veramente quello è un indicatore molto forte di un seriale, perché i seriali tendono, è quasi una consuetudine prendere trofei, ora, magari, non sappiamo a livello di oggetti quello che è stato portato via dalle scene, io sono, secondo me, molto, veramente molto probabile che il mostro abbia sottratto degli oggetti tra le vittime, magari anche insignificanti, difficili da trovare, però qualcosina, secondo me, ha preso. Detto questo, il problema poi lo risolviamo col fatto che lui, comunque, purtroppo, portava via qualcosa alle vittime, insomma, sto parlando delle scissioni, sì, 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 eppure da quel punto di vista però c'è da dire qualcosa, perché comunque il 74 è un delitto che senza scissioni, l'82 è un delitto non ci sono scissioni e quindi anche là poi il discorso l'83 è particolare, però comunque il mostro qualcosa alle vittime purtroppo ha preso e va bene, comunque, vado avanti. Prego. Qua come vedi, ah, ok, qua differenti armi per ogni volta. Ogni volta. Questa è una differenza che potrebbe essere anche importante, ma anche letta in un'altra maniera. Comunque, aveva, poi aveva la compulsione di parlare degli omicidi con telefono a lettere, uccideva in remote Lovers Lane, quindi via degli amanti, gli omicidi avvenivano tutti intorno e dentro le macchine, dentro le macchine, le vittime erano sempre vicino all'acqua. Perfetto, e qua ci siamo, Graysmith come vedi insiste, poi qua ci sono delle indicazioni sul training, quindi sull'addestramento di Zodiac. Allora, esplosivi. Io l'altra volta non l'ho detto, Angelo, ma in realtà Zodiac, uno dei punti cardini del collegamento militare fu che lui effettivamente mandò una lettera con lo schema di una bomba. Eccolo, qui. Si vede Angelo? Sì, sì. Ok, lui fece questo schema della bomba quando minacciava chiaramente di fermare, questo sarebbe lo scuolabus, no? Ti ricordi che... Questo è stato mandato per lettera, giusto? Sì. Ti ricordi che aveva minacciato di... Sì, 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 di mettere la bomba... e gli inquirenti studiarono questi suoi schemi e notarono che almeno in teoria erano validi. Ora, Angelo, noi nel 2021 se io ti dico Angelo come si fa una bomba? Tu probabilmente me lo sai dire perché vai un attimo su internet... Ah, ok. Sì, ma in realtà no. No, se c'è la definizione mettiamola così. Vai un attimo su internet e lo vedi. Certo. Ma nel 1969 Angelo non c'erano queste informazioni reperibili. Una sorta di addestramento dovevi averlo necessariamente. Quindi questo è un altro collegamento al background militare che troviamo anche qui crittografia. Qua Grace mette sottolinea per via dei simboli più che altro. Sì. Poi ecco, vedi qua ti dicevo che è un soggetto parlando della persona Jodiak interessato a quello che ha intorno quindi ecco Gilbert Sullivan il micato ecco qui fa un'interessante annotazione Grace Smith. Jodiak usa bene la punteggiatura quindi lui era convinto che gli errori di ortografia che abbiamo già fossero falsi fossero sì una sorta di indizio un qualcosa qua conoscevi i motori questo anche è importante perché si ricollega allo stema della bomba che abbiamo visto prima quindi un addestramento in chimica quindi questo anche potrebbe essere un'indicazione importante perché all'epoca comunque non tutti avevano un addestramento in chimica di livello militare certo certo lui dice che può avere accesso al computer vabbè oroscopo astrologia questo penso che è più per il nome e qua sottolinea ancora questo un fanatico dei film ti ricordi che l'altra volta abbiamo nominato Badlands l'esorcista e The Most Dangerous Game qua lui è praticamente la preda più pericolosa ti ricordi il primo cifrario dove diceva che cacciare è la preda più pericolosa ok io vorrei tornare un attimo su Badlands un attimo solo e Badlands come se ti ricordi è la lettera firmata ok 8 maggio del 74 eccola qui la lettera è questa firmata un cittadino Angelo ci siamo l'abbiamo vista un'altra volta velocemente che ritorno Badlands è un film del 1973 di Terrence Malick molto molto bello e qua Zodiac vedi tra virgolette nel 1959 molte persone ammazzavano il tempo Kit e Holly che sono i protagonisti del film è molto bello e ammazzavano le persone ora all'epoca questo film qua fa lo scandalizzato dicendo che questa glorificazione dell'omicidio è deprolevole quindi non la condivide diciamo che è molto ecco molto molto ironica come come lettera filmata un cittadino Badlands eccolo qui lo vediamo questo ecco vedi guarda sono le stesse parole di Zodiac Angelo se ci fai caso lui le mette tra virgolette vedi un sacco di persone uccidevano il tempo lui le mette tra virgolette i teoli uccidevano le persone esattamente questo è un poster vintage dell'epoca quindi probabilmente Zodiac questo l'ha letto da qualche parte e vabbè certo e ok e questo è il riferimento al primo film no una domanda volevo fare io la lettera che ci hai appena fatto vedere è di un colorino giallo ok è giallo perché è stato fatto realizzato su internet o perché ecco esatto o era perché era gialla così la lettera o perché è imbecchiata questa è una scansione non è in bianco e nero l'hanno resa a colori lui solitamente scriveva con lettera e con penna blu l'inchiostro blu e su questi fogli un po' un po' antiquati ecco mettiamola così quindi così è come appare penso nella realtà effettivamente ok è già lì semplicemente alcune sono in bianco e nero altre per via della scansione ecco tutto tutto lì e poi come stavo dicendo è l'altro riferimento all'esorcista ma ci arriviamo dopo allora e ok ah poi ecco io non ho avuto molto tempo per vedere il video della volta scorsa la puntata scorsa però ne ho letta una di un utente che chiedeva dell'orologio zodiac se se ne sa di più io l'altra volta effettivamente l'ho fatto vedere in relazione all'acqua quindi ho fatto vedere questo orologio ok come riferimento all'acqua questo è lo zodiac sea wolf la domanda in realtà è buona nel senso questo era uno degli orologi più famosi a livello militare zodiac il lupo di mare però chiaramente vedi compare il simbolo e compare il nome quindi è presa come ispirazione del nome che poi si è dato come ricordate nella lettera del 4 agosto se lo dà da solo quindi esatto quindi qualcosa diciamo ecco che l'aveva colpito in realtà ci sono anche altri orologi della zodiac ma questa lo dico mera curiosità ecco questo è un zodiac astrographic per esempio per festeggiare l'allunaggio ok ok per esempio questo ha un qualcosa di interessante in ottica mostro eccolo qui te lo faccio vedere subito come vedi ha un puntino rosso angelo che poi lo ritroveremo lo ritroveremo ritroveremo una diversificazione cromatica quasi inspiegabile nella lettera del mostro se ti ricordi ci sono un paio di puntini un puntino un trattino rosso quindi può essere interessante da quel punto di vista questa è una scoperta di Valeria Vecchione comunque dopo citerò a dovere e poi vabbè ci sono altri ecco per esempio questo come vedi angelo torna sempre una questione eccolo qui waterproof questo waterproof angelo è uno dei tanti riferimenti all'acqua che farà Zodiac perché nella lettera allora vediamo qui eccolo qui lui farà il riferimento all'essere allora come vedi qua è purtroppo la giro angelo la giro in diretta e al contrario come vedi ci sono reports che i pig quindi i maiali i maiali della polizia si stanno avvicinando a me FK sta concedendo un angelo per FAQ quindi I'm crack I'm crack proof questo angelo è l'ennesimo riferimento all'acqua di Zodiac perché come hai visto questo crack proof sostituisce il waterproof che ritroviamo eccolo qui lo ingrandisco si vede meglio si vede waterproof si si che è praticamente la caratteristica dello Zodiac Sea Wolf ecco ecco per esempio questo è un altro orologio sempre il Sea Wolf sempre angelo come vedi era l'orologio vedi il palombaro definirlo sempre waterproof ok questa era la curiosità di un utente che aveva fatto la domanda in merito agli orologi un altro utente un altro utente aveva chiesto aveva sottolineato che ah quella specie di simbolo strano che avevamo trovato sul fumetto di Timoth l'altra volta si sto parlando di questo era appunto relativo all'allevamento di Vitelli si in realtà non è sbagliato ma era semplicemente l'avevo fatto vedere velocemente l'altra volta comunque ecco questo potrebbe essere il riferimento di cui parlava l'utente comunque va bene questa volevo rispondere ci tenevo era sono curiosità lecite sacro santo ok poi vediamo domande penso che ci siamo allora riguardo al profilo poi penso che ah ok ecco vorrei partire da qua allora Angelo se non ti dispiace questo è sempre il libro relativo a Ruggero Perugino ok sta parlando del mostro di Firenze in realtà qui vedi sta parlando della busta a Silvia della Monica del 1985 certo non aveva nulla a che vedere con l'esibizionismo del killer dello zodiaco che sfidando la polizia a prenderlo anticipava i suoi delitti con un messaggio I gonna play in us killing is much better than getting your rocks off with a girl uccidere è molto meglio che l'orgasmo con una ragazza però quella lettera nella sua orrida semplicità esprimeva altrettanto cremente il punto di vista del nostro assassino Orangelo era insieme una sfida e un insulto quello che voglio far notare è che Ruggero Perugini quindi l'investigatore che dava la caccia al mostro di Firenze ha notato un parallelismo tra Zodiac e il mostro di Firenze ora chiaramente lui dice sì non aveva niente a che vedere però come vedi ci sono delle imprecisioni perché in realtà Zodiac è vero che parlava tanto ma per esempio questo non esiste questo fa parte in realtà del cifrario che abbiamo visto quindi questo dimostra che le informazioni che arrivavano su Zodiac che erano in Italia su Zodiac non erano poi così esatte chiaramente Angelo è giustificabilissimo stiamo parlando del libro del 1994 le indagini sono relative ancora prima di quel periodo quindi è Angelo senza internet senza informazioni niente tra l'altro l'idea che il mostro potesse venire da fuori fu indagata dalla stessa Silvia della Monica quest'ipotesi tramite un'informativa interna che circola in rete quindi si trova facilmente dell'82 in cui chiede all'Interpol un rapporto sui casi simili quindi delitti di coppie sostanzialmente avvenuti dal 1970 in poi quindi ecco siamo proprio lì perché quelli di Zodiac sono del 69 in altre parti del mondo quindi Angelo l'ipotesi non era poi così remota era stato richiesto certo era stato richiesto quindi non era assolutamente una cosa remota allora lo ricordo brevemente prima di poi ecco questo guarda questa è un'altra curiosità questo è un fondaggio che è stato fatto su Reddit semplicemente nella professione più probabile di Zodiac come vedi Angelo come vedi ci siamo la maggior parte delle persone è convinta sia Painter Decorador sarebbe pittore no? pittore sì pittore di case sì sì come vedi sono la maggiore in bianchino in bianchino sì anche perché attenzione se tu hai visto il film quell'ultimo di Robert De Niro madonna ora mi sfugge il nome perché di Harishman sì ecco il pittore di case però il pittore di case era inteso come omicida perché gli schizzi del sangue delle persone andavano sui muri e quindi lo chiamavano il pittore che fai dipingo case allora scusami ti interrompo stasera invece ti voglio rompere le balle è bene ho visto una fotografia non so se in questo in questa cartella o in l'altra di Woody Allen sì eccola qua allora questo esattamente Angelo perché questa me l'hai ricordato bravissimo era la domanda di un altro utente cioè al più la domanda è un'osservazione che ha scritto relativamente alla scorsa puntata Brian Hartnell te lo ricordi è il ragazzo di Leverietta che ti faccio vedere è identico all'identikit di Zodiac in realtà stava parlando di Brian Hartnell eccolo qui vedi gli occhiali con la montatura e ha osservato chiaramente Brian Hartnell è un ragazzo molto alto stiamo sul metro e novanta quindi aveva parecchi centimetri in più di Zodiac fisicamente completamente diverso però il viso dice no è uguale all'identikit di Zodiac e questa è una cosa che è stata fatta notare a più riprese in realtà io avevo messo quella foto di Woody Allen questo è un lavoro che ha fatto Francesca Micone ha fatto una ricerca in merito veramente clamorosa non c'è bisogno di andare così lontano con la fantasia sto parlando di un eventuale gollamento con Brian Hartnell che è assolutamente impossibile in realtà questo guarda la data Angelo la settimana tra il 5 e l'11 ottobre ok l'11 ottobre è il 69 ok c'è l'omicidio del Paul Stein lo ricordo 5 ottobre ecco qui c'è l'identikit di Zodiac Angelo come vedi lo si trovava sul Chronicle non bisognava andare molto lontano eccolo qui io lo ingrandisco ricorda qualcuno? sì guarda tra l'altro però insomma ora però veramente andiamo sì 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 no è assolutamente perché poi il killer ci dice questo non vi dirò in cosa consiste il mio travestimento quando uccido quindi probabilmente Angelo come abbiamo visto l'altra volta la parrucca quindi probabilmente vabbè una semplice curiosità ecco mi volevo spiegare un ragazzo che faceva notare la somiglianza con Brian Hartnell e allora ecco l'altra volta io ho parlato del collegamento militare dell'ASA e del CID non si vedeva bene nel documento che avevo che avevo inserito qua si vede un po' meglio ASA e CID al presidio di San Francisco sono dell'opinione che il soggetto ha ricevuto addestramento in crittografia dall'esercito ok ecco volevo far notare questo Angelo io mi ricorrego col micato prego allora siamo nel 1900 come abbiamo visto 74 quindi da dove abbiamo terminato la scorsa puntata quindi 29 gennaio 74 ok come ti ricordi come ricorderai Angelo c'era il passaggio del micato si l'avevi fatto vedere anche perfetto e lo ricordo ancora brevemente la lettera è questa abbiamo fatto vedere questo questo passaggio che fa più effetto ascoltandolo ok Angelo a questo punto Zodiac sparisce negli Stati Uniti non se ne saprà più nulla nel frattempo nel frattempo come vedi negli Stati Uniti esce l'esorcista stiamo parlando la prima è stata il 26 dicembre del 1973 ok quindi siamo proprio alla fine del 1973 questo è l'articolo di Polaveri sull'esorcista perfetto eccolo qui l'esorcista come detto Zodiac sparisce non si sa che assolutamente non se ne saprà più nulla e a questo punto Angelo io apro qui ok ci siamo nel frattempo che cosa succede che pochi giorni dopo la scomparsa di Zodiac in America in Italia succede questo ingrandisco si raggiangelo domenica 10 febbraio milioni di spettatori devo fare un piccolo appunto su questo film questo film pur avendo 50 anni a tutt'oggi terrorizza anche me anche se l'ho visto forse 100 150 volte io quando l'ho visto la prima volta questo è la casa di Sam Raimi il noto regista anche del produttore di Spider-Man poi alla fine però ai tempi quando invece la casa ero uno studente universitario insieme agli altri attori sono due film che a me mi hanno sconvolto io te lo dico proprio ma Angelo ci credo il Resorcista non è un film affatto semplice una semplice domanda ti chiedo adesso ora non c'entra nulla allora ho acceso un po' la stufetta fa un po' di rumore senti? io non sento nulla Angelo ti vede ti sento perfettamente ok perfetto allora lo posso lasciare accesa grazie prego figurati allora come vedi Angelo Zodiac ha mandato la lettera del 29 gennaio da poco più di una settimana ok e io qua devo aprire una parentesi devo andare devo procedere a livello collaterale con l'Italia perché il 10 febbraio comincia ad arrivare l'eco di quello che sta accadendo negli Stati Uniti dove il film è uscito da poco più di un mese ricordo che Zodiac ha scritto da poco più di una settimana la lettera dell'esorcista ok quindi in Italia comincia ad arrivare l'eco dell'esorcista sì ok e ci sono delle domande in Italia ecco qui adesso io voglio far vedere ecco 17 settembre in realtà prima di far vedere questo ecco qui questa è la domanda ti ricordi del register del giornale di Napa no? di Napa sì 11 dicembre del 75 quindi in Italia è già accaduto qualcosa Angelo cosa sta facendo adesso Zodiac? il 75 era già accaduto esattamente cosa sta facendo Zodiac adesso? dove è Zodiac? è una bella domanda Angelo io qua parto con i parallelismi inquietanti perché a livello di date prego prego noi siamo qui apposta ma ancora potrebbe essere questa la risposta Angelo di quello che stava facendo Zodiac io ti faccio notare la data quindi sì no vabbè anche perché sono stato uno degli autori del chip di Rabatta quindi esattamente mi ricordo molto bene ti ringrazio a titolo personale e questo è un parallelismo inquietante anche perché Angelo come vedi qui è una data di un bel fuori moda nota la data Angelo il 21 settembre del 1974 la settimana dopo esattamente la settimana dopo era la settimana dopo sì esattamente la settimana dopo Angelo e la settimana dopo tra l'altro eccolo qui ok questo l'abbiamo visto Satana sta priorizzando ok Angelo nota la data martedì il 7 settembre quindi due giorni e mezzo dopo sì il sabato domenica e due giorni e mezzo ok Angelo l'esercista stava arrivando perché come abbiamo visto in Italia uscirà il 21 settembre del 1974 a una settimana esatta dal delitto di rabatta delle fontanine di rabatta sì e questo secondo me è un parallelismo che è importante eccolo qui vedi venerdì la prima a Roma e a Milano 20 settembre ha incassato anche più del padrino addirittura dell'esercista quindi a livello mediatico il film è molto forte no mi è venuto mi è venuto in mente una cosa di un aneddoto che non c'entra solamente nulla con questa storia che stiamo raccontando ma che ha raccontato il nostro buon Andrea Bonechi è un attore di Lercio tra l'altro che mi fregio di chiamare amico e raccontava che Mario Puzzo quando schisse il padrino non sapeva niente di regia allora cosa fece schisse appunto la regia del schisse il padrino la sceneggiatura del padrino e tutto quanto poi sappiamo che lui disse intanto ora schivo questa sceneggiatura e dopo comincerò a studiare sceneggiatura lui scrisse senza sapere nulla la sceneggiatura la sceneggiatura del padrino il padrino uscì divenne come dire un calto che è a tutt'oggi e subito dopo lui disse ok ora compro un libro dove io posso imparare come si fa la sceneggiatura e in questo libro il primo capitolo era come realizzare una sceneggiatura alla Mario Puzzo e se che quindi l'avevo già emulato l'avevo comprato un libro dove spiegava come lui quando non sapeva era una cosa che mi piaceva come dire mi piaceva ricordare prego ora giuro ziozzetto ma figurati Angelo è un piacere guardami perché sto alleggerendo un po' la situazione anche perché le cose sono molto pesante lo hai visto no no pesante in un certo modo non pesante inquietante ecco scusa forse sbagliate perché come vedi allora questa è pagina 11 e pagina 15 del Corriere della Sera del 17 settembre 74 come vedi Angelo l'omicidio è avvenuto ok a pagina 15 c'è l'articolo sull'esorcista quindi il parallelismo con l'esorcista che può sembrare un qualcosa di non dico campato per aria ma diciamo così non direttamente connesso con il mostro di Firenze e Zodiac in realtà noi sappiamo che pochi mesi prima forse all'epoca non si sapeva però era stata la citazione finale del serial killer Zodiac e in contemporanea in Italia succede praticamente questo ora Angelo questo io ti premetto che è un lavoro che è stato fatto da Francesca Micone secondo me citiamo nelle fonti perché non vorrei poi che qualcuno si arrabbiasse dicendo non mi avete citato no 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 assolutamente ci tengo perché secondo me è stato un lavoro molto importante e se posso permettermi è stato preso un po' sotto gamba e adesso voglio spiegare il perché allora Angelo parlando dell'omicidio di Rabatta noi sappiamo che è un omicidio che è differente da tutti gli altri del mostro di Firenze correggimi se sto dicendo qualcosa che non sei d'accordo magari correggimi subito comunque penso di poter dire che è un omicidio molto diverso da tutti gli altri del mostro di Firenze da quelli che cominceranno poi nell'81 tu sei sei d'accordo con me quando affermo questa cosa? anche perché secondo me nel 74 molte persone si sbagliano sulla dinamica secondo il mio punto di vista e probabilmente ma io sto facendo infatti delle ricerche a tal proposito non lo dico a nessuno perché amo fare cose per conto mio però secondo me nel 74 il mostro poteva conoscere la Stefania ok guarda mi hai fornito un assist clamoroso non volendo non volendo no però è importante è importante perché questa è l'opinione che va per la maggiore per giustificare quello che la povera Stefania ha subito e quando parlavo di differenze rispetto agli altri omicidi del mostro mi stavo riferendo proprio a questo allora per spiegare l'accanimento non so come altro definirlo Angelo l'accanimento sul corpo della povera Stefania viene usata molto spesso questa questa idea il mostro conosceva la vittima femminile è un'ipotesi Angelo come detto ne sappiamo poco poi del mostro non avendo il soggetto aspetta premetto ci sono delle sentenze me ne rendo conto perfettamente e io vorrei un attimo accantonarle perché secondo me non c'è a me stata è una mia opinione personale Angelo quindi magari sbaglio non lo so però secondo me non c'è mai non è mai non è mai emersa la verità completa e totale su questa storia io di questo sono purtroppo ma che ci siano delle sentenze siamo assolutamente d'accordo e concordi ci fanno credere ancora di essere in democrazia io lo credo e quindi posso dire che rispetto la sentenza ma non la condivido quindi potrebbero anche secondo me commesso un errore io non ho detto che sono stupidi la magistratura italiana come le magistrature di tutto il mondo commettono errori vengono messi alla gogna innocenti vengono in Texas sono stati uccisi innocenti ma non perché lo dico io perché con dati alla mano si è scoperto che chi era stato giustiziato era comunque innocente quindi non è che stiamo facendo chissà cosa non stiamo d'accordo su alcune sentenze che sono passate in giudicato ripeto che io rispetto ma non condivido quindi presumo sia anche la tua posizione poi tra l'altro sì Angelo come giustamente detto secondo me le sentenze poi le fanno i uomini e i uomini possono sbagliare ecco esatto senza dare la colpa a nessuno ci mancherebbe altro non è che sto colpabilizzando chissà chi ci mancherebbe no 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 assolutamente no no ci tenevo a dirlo perché se ma io voglio fare lo so che ci sono stati per la magistratura ci sono stati colpevoli per me non erano loro punto poi discutiamo no 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 ok è un po' ecco è la mia idea quindi nel momento in cui la verità secondo me non è non è emersa secondo me non si può non si deve tralasciare nessuna ipotesi nel senso è sicuramente valida l'ipotesi io tra l'altro ti auguro la migliore fortuna con con la ricerca con la ricerca che stai facendo però Angelo questo secondo me è un'ipotesi che azzardo andrebbe un po' in controtendenza con quello che è il comportamento del seriale sì ora io so che diciamo in questo caso la criminologia la cosiddetta criminologia non va di certo per la maggiore anzi anzi viene viene criticata per quanto mi riguarda almeno secondo me è molto molto importante perché comunque è basata su determinati comportamenti che che i serial killer tendono ad avere la difficoltà quello che voglio dire è questo che la difficoltà nella caccia ad un maniaco seriale è proprio questa mancando il movente non essendoci una connessione diretta con le vittime perché se tu ci fai caso l'abbiamo visto anche l'altra volta allora ti dico in diretta scusami un nostro ascoltatore ci dice ho iniziato a vedere la prima parte e come al solito hai fatto centro complimenti sta parlando del video con te perché è la prima volta che sento la voglia di seguire per intero una trasmissione su Zodiac quindi bene bene io sono molto contento di questo e ringrazio ringrazio lo spettatore ecco stavo dicendo comunque che secondo me non è un comportamento la ritengo io ti ripeto ti auguro le migliori fortune per la ricerca che sta facendo ma la ritengo un po' una forzatura per spiegare un comportamento che altrimenti sarebbe difficile da spiegare certo sì sì perché è raro la difficoltà del cacciare serial killer è quello che è raro che ha una connessione diretta con la vittima magari può essere unilaterale nel senso ha visto la vittima faccio un esempio in un locale ha cominciato a fantasticare e poi ha perso il controllo ed è sfociato in quello che poi è sfociato con Stefania Pettini il problema secondo me è che quell'omicidio presenta troppe differenze Angelo e se non viene spiegato con il maniaco conosceva la vittima diventa difficile da spiegare perché poi noi sappiamo che il mostro le vittime molto probabilmente mi permetto di dirlo non le conosceva perché altrimenti non si spiegano i delitti dei ragazzi tedeschi dell'83 e dei ragazzi francesi dell'85 perché la sicuramente non li conosceva insomma ci sono qualcosa da dire magari ecco c'è su quello che hanno fatto i francesi prima di arrivare alla piazzola degli scopeti ma insomma probabilmente sicuramente non li conosceva allora io ti voglio dire la mia idea allora nel 69 perché per me il 21 agosto del 69 fa parte della della serie omicidiaria del mostro ok nel 69 li conosceva nel 74 ha replicato con una persona che comunque conosceva e dopo si è allargato a persone che non conosceva cioè nel senso sapeva conosceva i luoghi dove queste persone si appartavano e lui era lì e naturalmente le beccava a caso quindi non dicono che le seguisse eccetera eccetera secondo me no che si appostava lì e chi arrivava arrivava però Angelo adesso ti voglio un attimo fare voglio rilanciare ma questo modo di fare ti sembra cioè vabbè sì ti sembra compatibile perché è la tua idea chiaramente ma non stona ecco mettiamola così non stona con quello che sarà poi il mostro di Firenze dall'81 in poi cioè quei diritti del mostro sembrano veramente freddi sembra trattare le vittime come cose oggetti cioè sono veramente non hanno non sembrano avere nulla di personale non so se se mi sono spiegato sì sì no 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 ma allora forse non ci siamo capiti sì secondo me è così nel senso c'è stato un escalation va bene un escalation di violenza che dal 74 poi è andata sempre a tra virgolette a peggiorare cioè nel senso a migliorare per lui a peggiorare per noi e quindi secondo me sì non c'era assolutamente ripeto per me lui si metteva in una piazzola aspettava poteva corna potevi arrivare te con la tua fidanzata e potevi rimanere come dire sotto le sue grinfie no? ecco questo è vero Angelo però se parliamo di escalation ok? sì però allora se te mi dici è vero Angelo però mi annulli tutto quello che hai detto prima quindi quando mi dici hai detto è vero quello che hai detto e poi dici però vuol dire che non è vero quello che ho detto prima non è vero volevo fare tuttavia tuttavia i giochi di questi ci riconoscono se parliamo di escalation questo ti sembra l'inizio o la fine di un escalation? in realtà qui siamo già a buon punto non è proprio all'inizio però devi anche pensare che nel 69 già ce n'è stato uno e probabilmente ce n'è stato qualcun altro anche tra il 69 e il 74 questo noi non lo sappiamo prego continua a te continua a te no 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 per carità è vero non lo sappiamo però Angelo ho sempre avuto l'impressione che questa più che un escalation è un escalation al contrario cioè questo sembra il culmine sto parlando di Stefania Pettini sembra il culmine di un una perdita di controllo non so come autodefinirla perché lo ricordo lo ricordo brevemente Angelo la particolare di questo omicidio che ha due elementi che non si verificheranno più 96 coltellate post mortem sì e non sono solo ferite da punta ecco questo non si verificherà più questo si verificherà ancora in maniera molto minore ma avremo altre ferite da punta ma il numero decisamente minore le ferite da taglio le ferite da taglio sono un aspetto che non si verificherà più questa è la prima particolarità del delitto la seconda particolarità è il tralcio di vite ok e anche questo Angelo non sarà più presentato in alcuna maniera cominceranno le scissioni ma non ci sarà un interesse macabro del del genere no esattamente di violenza perché poi diventeranno ancora peggiori Angelo non lo so peggiore di questo le scissioni io credo siano peggiori non so poi se poi tu le reputi minore rispetto al va bene secondo me c'è un aspetto assolutamente è terribile però qua sembra veramente un accanimento contro la donna spiegabile contro la vittima femminile e anche la posizione nella quale viene lasciata possiamo definire lo staging? sì allora guardando la fotografia e la posizione del corpo e tutte le punzecchiature perché io poi in realtà purtroppo per mia fortuna purtroppo insomma ho visto anche le foto originali che erano state fatte in loco me le feci lo dico tranquillamente anche se lui non c'è più che può confermare ma insomma potete credere a quello che vi dico io ho visto le foto originali che Mario Spezzi fece nel 74 che gli furono passate adesso non ricordo e si vedeva bene che erano tutte punzecchiature non era un bellissimo spettacolo da guardare anzi però vederle in quella maniera c'è stato un accanimento contro assolutamente contro la donna è per quello che io dico che secondo me mi vado a ricollegare a quello che ho detto precedentemente secondo me lui poteva anche conoscerla proprio perché la conosceva e proprio perché ce l'aveva con lei naturalmente trattasi e te lo dico senza alcun problema come dico ai nostri spettatori trattasi di un mio puro e squisito pensiero personale io posso sbagliarmi come tutti gli esseri ma attenzione no no assolutamente io qua ho preso da voi questa è Wikipedia chiaramente ho preso la definizione di Lovers Lane un'area remota dove le persone vanno a cercare intimità sostanzialmente e con parcheggi sperdute fuori mano anni rurali sperduti con una vista straordinaria e cityscape che cos'è il paesaggio il panorama il panorama sì ok e questa è la definizione su Wikipedia di Lovers Lane in realtà c'è una cosa interessante sempre su Wikipedia eccolo qui sempre nella stessa pagina Angelo guarda è facilmente consultabile da chiunque basta che si va su Wikipedia Lovers Lane questi sono i crimini avruti la Lovers Lane come vedi Angelo diverse delle vittime di Zodiac sono state uccise Lovers Lane Nord e California non bisogna nemmeno sforzarsi no no tutte le vittime mostri di Firenze erano coppie uccise nel Lovers Lane vicino a Firenze dai anche su Wikipedia allora volevo dire nel senso il mio discorso l'ho fatto prima non era contro quello che facevi te non ti stavo contestando quel lato lì perché a prescindere da chi tu possa pensare secondo me ti ripeto secondo il mio squisito parere lui la conosceva per te per me poi a prescindere a chi fosse è proprio per questo che c'è stato un accanimento come tu dici perché stai dicendo la realtà dei fatti c'è stato un accanimento sul cadavere poi in realtà no perché era già morto quindi ti stavo dando ragione ecco no no ma guarda io faccio una piccola premessa io frequento comunque conosco un po' diciamo come chiamola così conosco il pensiero generale su questa storia e so che la tua ipotesi quello che stai affermando di una conoscenza tra il mostro e Stefania Pettini è l'ipotesi appunto che va per la maggiore io non ho il mostro sotto mano e non ho elementi per dire se questa ipotesi è corretta o meno no questo io sto semplicemente semplicemente accostando quello un riferimento diretto che è stato fatto dal serial killer Zodiac e sto cercando di seguire una linea temporale quindi stiamo parlando dei primi mesi del 74 fino all'uscita in contemporanea dell'Italia che il 14 settembre c'è l'omicidio di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore lo ricorda le fonti e il 21 settembre c'è la prima dell'esorcista in Italia quindi sto semplicemente seguendo un filo che dopo si ripresenterà un'altra volta nell'81 non voglio anticipare nulla detto questo so che questo collegamento dell'esorcista lo specifico un'altra volta è stato preso sotto gamba secondo me questa è la parola giusta l'ha fatto Francesca Micone è stato preso sotto gamba io lo propongo Angelo mi rendo conto che è una questione abbastanza forte però siccome adesso abbiamo spero perlomeno dall'altra puntata più elementi per vedere bene le fissazioni di Zodiac sì posso farti una precisazione che è arrivata proprio ora sul video che abbiamo fatto l'altra volta l'amico Carlo Pellaco che vedrò l'11 di dicembre dice intanto mi dice che il campo che stavo cercando il nome era Camp Derby grazie grazie per la precisazione poi dice l'errore ortografico al solito probabilmente voluto di Zodiac quando scrive paradice invece è paradise è un ulteriore riferimento criptico del serial kill alla sua organizzazione militare di appartenenza inserendo C al posto di S leggendo al contrario partendo da C ecco che abbiamo Cid gli piace tanto a Zodiac disseminare segni occulti che in gran parte non sono stati capiti sei d'accordo? allora guarda tra l'altro avevo letto una domanda adesso mi torna in mente questo stesso signore ha fatto una utente ha fatto un riferimento alla parola Cid se non erro sotto i commenti del video non è sbagliato Angelo perché torno un attimo allora rispondo velocemente perché è giusto Zodiac in uno dei suoi più famose delle sue più famose lettere eccola qui che è quella con sostanzialmente il mio nome è my name is si chiama questo cifraglio sono 13 lettere come vedi ok e qua in questo in questa lettera abbiamo degli errori ortografici per esempio qua sotto c'è Cerus che sarebbe tipo Ceroso ok ma in realtà è tradotto è un errore un presunto errore mettiamola così o magari un indizio di qualcos'altro e in realtà sarebbe curioso quindi sono moderatamente curioso di quanti soldi avete messo sulla mia testa sostanzialmente la taglia sotto per rispondere all'utente fa riferimento a un attentato che era avvenuto poco prima ai danni di una stazione di polizia avevano messo una bomba vedi Blumini lui ricordo ancora il collegamento con Yellow Submarine The Beatles sono i cattivi blu dei Beatles avevano messo una bomba a una stazione di polizia e lui dice anche se ne ho parlato di uccidere i bambini della scuola non sono stato io non sconfinerei mai nel territorio di qualcun altro quindi sostanzialmente prendere distanze da questa bomba da questa esplosione e qua ma c'è più gloria nell'uccidere un poliziotto si vede Angelo che un cid perché un poliziotto può shoot back e sparare indietro rispondere al fuoco rispondere al fuoco certo ok questo credo che sia riferimento del signor Carlo cid in realtà lui qua voleva dire kid ok kid ragazzo ok perché stava parlando dell'uccidere i bambini della scuola quindi questo o è un errore o un terrore o un indizio di qualcos'altro sicuramente la parola è cid è la stessa che ha indicato l'utente io questo lo specifico qui che dice ho ucciso ho ucciso dieci persone e non riesco a capire vedi stasera mi offre gli assist l'ennesimo riferimento all'acqua e potevano essere molte di più tranne che la mia bomba sul bus la mia bomba del bus ha fatto cidecca e sono stato spazzato via dalla pioggia eccola qua la vedi dalla pioggia e abbiamo avuto tempo a dietro che c'era mentre durante il fermo non riesco a capire non leggo dobbè dobbè while 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 back while back abbiamo avuto qualche tempo fa while back ok quindi ecco era questo il riferimento che faceva il cid sì effettivamente qua c'era la parola cid ricordiamo che il cid partecipava alle indagini da san francisco in poi perché era l'installazione militare al presidio di san francisco quindi ha suggerito alla polizia di san francisco guidata da Dave Tosch e da Bill Armstrong lo ricordo che Zodiac poteva avere un addestramento militare qui c'è effettivamente la parola cid è nominata ma sta per kid per ragazzo quindi diciamo che è un errore ortografico ok ho risposto bene sì no nel senso ci tengo a no no ma bene ma io allora ragazzi vi invito mentre guardate questa puntata a fare tutte le domande che volete ora aspetterò un po' dopo questa puntata aspetteremo magari anno nuovo io ne radunerò 10 15 o 20 e poi farò al dottor Trinchieri darò la possibilità di rispondere a tutti voi riguardo questa storia ok e volevo anche dirvi che sto preparando la vera storia di Jack lo squartatore tanto per rimanere in tema e tutti questi argomentini molto tranquilli allora Angelo io riprendo dal discorso dell'esorcista stavo dicendo mi rendo conto che la mia è semplicemente una proposta è una possibile spiegazione ti ripeto io non ho il mostro sotto mano non ho elementi sul mostro per dire no sicuramente conosceva Stefania no non conosceva Stefania siccome io sto sto parlando fondamentalmente di Zodiac e mi è stato chiesto di fare dei parallelismi col mostro io questo lo devo è un lavoro di Francesca Micone ma lo devo assolutamente citare Angelo perché certo assolutamente sì ma non c'è ma se non ti dispiace io posso mandare un filmato dura quasi due minuti è un pezzo dell'esorcista sì spero spero che youtube non non me lo cassi è un filmato è personale insomma posso andare? sì prego no no è personale ma tratta di un film che comunque a Zodiac ok ok questo è il il riferimento è preso dal canale di Francesca Micone è il riferimento all'esorcista si vede Angelo tutto a posto? sì sì ho visto il miglior sito satirico oh defender of the human race oh look down in pity you killed unless your servant you left her alone to die shut up shut up I forgive you shut up it's the power of Christ that compels you the power of Christ compels you that the power of Christ compels you 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 allora Angelo ecco ok a posto prego sto per tornare allora Angelo io mi rendo conto che è un collegamento è forte tra l'altro cerco di dire tutto questo col massimo tatto possibile comunque secondo me è un collegamento che non deve essere trascurato tu abbiamo appena visto il filmato io adesso prendo uno spezzone questa è l'immagine di Regan la bambina come vedi piena di tagli la posizione è abbastanza inquietante si è presa in similitudine adesso Angelo guarda veramente mi dispiace col massimo tatto possibile sto dicendo questo lo sappiamo che abbiamo il pieno rispetto meno rispetto hai notato questa è una ferita da taglio che è stata fatta dall'acqua santa come hai visto c'era l'acqua santa ora Angelo c'è l'ultima lettera di Zodiac che parla dell'esorcista e l'esorcista sta uscendo in Italia uscirà la settimana dopo c'è questo omicidio con queste caratteristiche particolari secondo me la questione per quanto strana ecco mettiamola così possa sembrare non va presa sotto gamba perché potrebbe essere veramente non vabbè poi qua se ne discute se il primo se il secondo delitto del mostro di Firenze ma potrebbe essere l'ultimo delitto di Zodiac perché poi ricordo che il mostro fino all'81 non si farà più vivo Angelo quindi dal 74 all'81 noi abbiamo un periodo di silenzio non sappiamo che c'è stato qualcos'altro a livello collaterale ma le cosiddette tra virgolette morti collaterali io Angelo lo faccio presente e anche perché c'è riferimento al al tralcio di vite insomma quando l'esorcista ha una scena molto forte con un crocifisso ora vabbè sappiamo di che stiamo parlando ok suggerisco anche questo come riferimento al tralcio di vite anche perché il mostro non presenterà più interesse ecco per la zona anche perché poi le le scissioni saranno fatte su una una zona leggermente diversa lo vedremo fra poco quindi Angelo io ti ringrazio di avermi dato la possibilità di poter fare questo collegamento che mi rendo conto che è forte ma secondo me può essere una teoria valida in quel caso avremmo l'ultimo omicidio di Zodiac e non il primo del mostro perché ci dà direttamente una cioè secondo te il 14 settembre del 74 è l'ultimo omicidio di Zodiac noi sappiamo che il diritto del mosro di Firenze no 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 parlando di quello della tua teoria perdonami non non dimaghiamo su altre cose ti ho fatto la domanda io rispondo al mio meglio allora nella mia nella mia ipotesi ecco qui ancora come vedi vengono fuori le prime caratteristiche nella mia ipotesi è se Zodiac ha preso un aereo e per qualche per qualche motivo che sia di vita sua non lo so per qualsiasi motivo mettiamola così si è trasferito davvero in Italia quindi oltre all'esorcista in Italia in quella settimana a ridosso di quelle settimane è arrivato qualcos'altro e sto parlando di Zodiac secondo me Angelo ci sono delle caratteristiche in questo omicidio che possono veramente riportare all'esorcista questa è la mia idea anche perché c'è questo parallelismo che a breve vedremo con un altro film Angelo se hai qualche domanda io ti rispondo volentieri altrimenti vado vado avanti e passo dall'81 allora c'è stato un piccolo break break è diventato cinese black va bene che in realtà vuol dire nero anche questo è un collegamento e Daniele si stava appunto finendo di illustrare l'esorcista prego allora niente volevo specificare semplicemente un'ultima cosa l'esorcista in Italia come abbiamo visto arriva il 21 settembre del 74 20 cioè la prima il 20 settembre del 74 quindi a ridosso una settimana dopo l'omicidio di Rabatta di Stefania Pettini e Pasquale Centri il Cuore stiamo parlando del 1974 chiaramente e se Angelo se veramente quella è stata una citazione o se c'è qualche rimando al film esorcista io voglio ricordare che il serial killer chi ha commesso quell'omicidio poteva averlo visto solo fuori dall'Italia quel film perché ricordo che in America è scelto il 26 dicembre del 1973 ok quindi siamo sì di date simili perché come ho visto l'eco mediatico comincia ad arrivare a febbraio a febbraio lo faccio vedere di nuovo a febbraio del 74 ok però Angelo il film è non uscito in Italia esce nella settimana dell'omicidio la vicenda scene e via battere di cassetta me li ha fatta personalmente le azioni isteriche del pubblico sul quale teoric e psichiatri vengono intervistati sì l'ho fatto vedere prima solamente per la data insomma ricordo che in Italia quel film il 14 settembre del 1974 non è uscito ok nel 1274 Angelo come sappiamo il mostro sparisce è un po' quello che in America succede con Zodiac la stessa situazione che dal 66 al 68 dal 71 al 74 dal 74 a per sempre chi lo sa vediamo il mostro dal 74 all'81 non dà tracce di vita poi ti ripeto se c'è qualcosa di collaterale che noi non sappiamo credo ci siano alcuni omicidi ancora risolti come facciamo però a puntare il dito su una determinata persona o su un determinato serial killer perché l'abbiamo visto anche nel video precedente che vi ricordo ho trovato alla fine di questo anche Zodiac uccideva come dire sempre con armi diverse quindi il coltello la corda la corda l'ho utilizzata per le gare il coltello le svariate pistole insomma tra l'altro volevo anche dirti e volevo farti anche complimenti perché tu hai detto che il film era era molto come dire vicino alla realtà tanto che uno diciamo dei protagonisti del lago periesta quando l'ha visto non ha dovuto distogliere lo sguardo da quanto era impressionato tu hai raccontato che in un omicidio Zodiac aveva una grossa lampada e mi sei venuto in mente perché nel film quando viene descritto appunto l'omicidio cioè viene e viene diciamo recitato si vede che Zodiac arriva con questo lampadone grosso infatti poi il testo va lì uccide li spara poi il ragazzo tenta di andare dietro tu l'hai raccontato perfettamente lui torna indietro e lo finisce però poi alla fine quindi volevo fare complimenti per come l'avevi descritto cioè l'avevi descritto in maniera esemplare ti ringrazio innanzitutto Angelo e ci torno e ti dico che si è tornato indietro in realtà perché Mike Maggio che si era buttato sul sedile posteriore della Corvair e in quel momento ha urlato comunque ha messo un urlo per il dolore quindi si è reso conto ecco questa questa è anche un parallelismo interessante che prendo subito e si è reso conto che il ragazzo non era morto è tornato indietro e ha sparato altri due colpi le vittime ora Angelo sempre restando in tema Zodiac mostro noi sappiamo che Zodiac scompare dall'America quando ha più o meno 40 anni a seguire le testimonianze dei sopravvissuti sopravvissuti che ricordiamo sono due due maschi Mike Maggio e Brian Hartner quindi abbiamo due sopravvissuti maschi noi sappiamo che Zodiac ha più o meno 40 anni quando se ne va si congeta dagli Stati Uniti ecco mettiamola qua mettiamola così io ti chiedo Angelo che idea ti sei fatto dell'età del mostro dai dal 74 in poi più o meno 74 84 ma io ti dico che secondo me io ho giusto già dove vuoi arrivare l'età concide cioè secondo me il mostro quando ha iniziato a colpire aveva dai 35 40 anni io Angelo concordo pienamente quindi su questo punto sono assolutamente d'accordo anche perché è vero che del mostro è un po' tutto aleatorio però c'è qualche avvistamento strano di un soggetto tra i 40 e i 50 anche là mafficio con una camminata un po' particolare perché questa poi è un punto sì esatto esatto un'altra volta io non l'ho accennato ma in realtà a San Francisco qualche tempo dopo Donald Falk che era il poliziotto che l'aveva visto e secondo Zodiac ci ha parlato lui diceva però secondo Zodiac ci ha anche parlato aveva descritto una sorta di in inglese shuffling loop non è molto semplice tradurla come espressione però è una camminata goffa pesante ok e questa camminata pesante coincide anche con l'impronta che avevamo vista a Lake Beriesta che era marcata sì adesso io non voglio non voglio addentrarmi troppo ma anche a Scopeti abbiamo un'impronta vicino al corpo di Jean-Michel che è abbastanza marcata mi sembra era Scopeti no era alle Bartoline forse alle Bartoline c'è un'impronta di uno scarpone vitale ma su quella non mi esprimo perché personalmente ho dei dubbi potrebbe essere qualsiasi carabiniere intervenuto al momento non lo so Angelo perché quell'impronta sembra andare anche sotto la macchina quindi potrebbe essere precedente secondo me non è molto chiara però io questo lo metto là solo a livello perché voglio attenere a livello di curiosità quindi diciamo che a Beriesta torniamo al lago Beriesta era un'impronta molto pesante quindi questa camminata pesante insomma un po' ritorna e anche in Italia c'è qualche avvistamento strano visto che come età è un proseguio ideale diciamo quindi Zodiac sparisce dagli Stati Uniti che ha più o meno 40 anni il mostro comincia in quei nove anni sappiamo che più o meno è intorno alla cinquantina alla fine è intorno alla cinquantina ha scoperto diciamo ecco ok mettiamo che ha scoperto che ha più o meno 50 anni che poi è uno dei tanti motivi indicati per i quali ha smesso insomma è uno dei motivi che vale la maggiore ha smesso perché ha invecchiato diciamola così che non era più in grado perché diciamo che l'ultimo omicidio ha avuto un po' di difficoltà ha avuto un po' di difficoltà quindi è una delle delle suggestioni insomma che il mostro ha smesso perché era arrivato a una certa età insomma 50 anni no ma allora volevo dire una cosa tu avevi descritto anche in modo molto dettagliato l'identikit che avevano fatto i due ragazzi soprattutto quello che lo ha visto nel parcheggio non nella coperiesa perché nella coperiesa aveva il sacchetto in testa e lui lo descrive come un uomo di circa 25-30 anni giusto? 25-35 Mike Maggio aspetta che te lo 25-35 ok te lo ritrovo subito eccolo qui Mike Maggio ok questo ok 25-30 no 25-30 in realtà poi direi anche 25-35 sul rapporto di polizia sì sì no vabbè esatto sì perché se lui lo vede 25-25-30 questo è nel aiutami nel 69 sì però poi c'è ci sono anche altri avvistamenti dove lui ecco per esempio c'è il cartello famoso di Presidio Heights eccolo qui il wanted come vedi Angelo e qua lui fu visto dagli adulti ti ricordi quel discorso che abbiamo fatto si vede Angelo 35-40 sì sì che i ragazzi cioè anche quando ero piccolo esatto sì 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 no ma più che altro perché Maggio l'ha visto poco poco e male ha descritto determinate caratteristiche come il viso tondo lo ricordo tarchiato i capelli castano biondi quindi non l'ha visto bene secondo me insomma questo lo dico per precisione per specificare qua è stato visto da dei ragazzi sì i fratelli Robbins lo ricordo ma anche da Fok e Zelms Donald Fok e Eric Zelms quindi questo secondo me Angelo lui era un giovane uomo quindi siamo siamo lì siamo intorno ai 35 ma sui 45 non non sarei molto d'accordo 45 nel 69 comincia a essere nell'85 la cosa che lo faceva sembrare più vecchio era il viso tondo il viso tondo e lo stomaco prominente il fatto di essere tarchiato esatto sì ecco magari sì dimostravo però Artnell però Artnell non ha descritto una persona Artnell ha avuto l'impressione che che questo soggetto stesse insomma sulla Trentina ecco adesso stesse sulla Trentina e per la voce ha avuto queste impressioni insomma stesse impressione che ha avuto Nancy Slower che era una delle tre persone con le quali ha parlato al telefono quindi questo però chiaramente Angelo non possiamo sapere lo diciamo che Zodiac era un giovane uomo probabilmente su intorno intorno ai 40 anni quando scompare dagli Stati Uniti ok qualche curiosità Angelo no no prego per avermi tutto chiaro allora quindi ecco tornando un attimo al parallelismo Zodiac mostro in questa teoria noi dobbiamo considerare che Zodiac viene prima del mostro il personaggio Zodiac è precedente al mostro di Firenze ok quindi sostanzialmente sparisce uno e compare l'altro se effettivamente ci troviamo davanti alla stessa persona Angelo dobbiamo tener conto in maniera netta che ci sono stati sicuramente a livello personale dei cambiamenti dovuti all'età quindi e nelle abitudini e nell'esperienza e nelle condizioni in cui opera perché se è un qualcuno che è arrivato dagli Stati Uniti in Italia si trova sì a avere come la definisco la stessa patologia la stessa compulsione però ci devono essere per forza dei cambiamenti che sono dovuti all'età all'esperienza e esperienza Zodiac sappiamo che ha lasciato in vita chiaramente non volendo perché ce l'ha messa tutta fortunatamente ha lasciato in vita due ragazzi aggrediti il mostro Angelo il mostro sembra aver imparato nel caso stessimo parlando della stessa persona sembra aver imparato da questa esperienza perché a volte esagera nel post mortem delle vittime maschili erro quando affermo questo? cioè ci sono delle no 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 delle pugnate post mortem o a freggio o per vedere se effettivamente la vittima maschile fosse morta tra l'altro c'è l'episodio rocambolesco di baccaiano del giugno 82 che ha una dinamica che ancora oggi Angelo sappiamo quanto è dibattuta e anche lì sicuramente questo soggetto seguiva una sorta di spartito definiamolo così però sapeva anche improvvisare perché in una situazione del genere e qua voglio un attimo riagganciarmi su una caratteristica che Robert Graysmith nota su Zodiac c'è una caratteristica che secondo me è comune e a Zodiac e al mostro eccola qui si legge Angelo? vediamo un po' allora questo è il profilo psicologico di Zodiac che è dato da Graysmith ok ecco calmo nelle crisi calmo in crisis è un'espressione americana che significa letteralmente poi calmo nelle crisi questo vuol dire che quando eventualmente in un'azione gli va tutto male lui rimane calmo come può essere allora questo è stato anche poi non mi ricordo quale criminologo lo disse sicuramente Francesco Sciurleo che saluto se sta guardando la puntata saluto anch'io lui disse che secondo secondo i suoi studi il mozzo di Firenze era una persona che riusciva a mantenere uno stress bassissimo anche durante i conflitti con le vittime che poi non sono conflitti perché esatto quindi tornerebbe è esattamente quello che Graysmith notò in Zodiac cioè quando ad esempio Beriesta esempio Blue Rock Springs quando qualcosa Lake Herman Road quando qualcosa va male Presidio Heights quando qualcosa non va secondo i suoi piani lui resta calmo e questo secondo me è anche una similitudine importante col mostro perché questa è una caratteristica che anche il mostro penso appunto di non dire niente di troppo azzardato è una caratteristica no no certo questo secondo me ecco può essere molto importante se parliamo della stessa persona è una caratteristica secondo me identica qua c'è un'altra caratteristica interessante adesso l'ho vista mi è voluta in mente è molto arrabbiato sempre Zodiac quando la polizia dice bugie su di lui ti ricordi il caso di Polavere il caso dell'omosessuale latente quindi lui indica che Zodiac è ragionevolmente veritiero quando scrive nei suoi scritti Angelo questa è un'interazione che adesso lo riprendo l'ho fatto vedere brevemente l'altra volta notò anche Ruggero Perugini eccolo qui guarda qui punto 26 si leggi Angelo si aspetta i più giornali che scrivono che molto dovrebbe essere quali sono le condizioni in cui agisce e più li creano necessità di adeguarsi a quegli stereotipi per calarsi nel personaggio chissà se riusciamo a complicare l'esistenza con l'aiuto della stampa Angelo questo secondo me è un passaggio veramente molto importante perché come vedi è la stessa cosa che faceva Zodiac reagiva alla stampa e tra l'altro qui Ruggero Perugini involontariamente o meno questo non lo so ma descrive proprio quello che hanno fatto gli inquirenti con Zodiac ti ricordi che l'altra volta abbiamo trattato il by knife sulla portiera della macchina che è stato che sui giornali non è stato pubblicato come la lettera del esorcista che non aveva quel simbolo strano ti ricordi? sì sì mi ricordo benissimo questa è la stessa cosa che è stata fatta in Italia perché se tu ti ricordi ho sicuramente l'Italio di giornale da qualche parte ma adesso non ho una disposizione comunque quando è uscita la notizia della lettera inviata a Silvia della Monica settembre 85 siamo a fine settembre 85 26-27 c'è una discussione recentemente c'è stata gli investigatori hanno dato di matto giustamente perché era un'informazione che doveva rimanere segreta ma perché doveva rimanere segreta? eccolo qua perché loro volevano aprire questo canale di comunicazione con il mostro di Firenze che sicuramente sicuramente è decisamente minore rispetto a quello di Zodiac non ci può essere un motivo chiaramente connesso alla lingua Angelo perché se uno straniero è arrivato in Italia uno Zodiac è arrivato in Italia non aveva piena padronanza della lingua e questo potrebbe secondo me spiegare il perché di una delle di comunicazioni arrivate in maniera minore poi anche qua Angelo io diciamo ecco non mi fido mi fido molto di questa di questa parentesi perché magari ci sono altre comunicazioni del mostro delle quali noi non sappiamo assolutamente nulla ad esempio ad esempio quello che nota Gray Smith qua eccolo qui Zodiac che si arrabbia quando la polizia dice bugie su di lui ti ricordi la questione della lettera della videocassetta arrivata spedita dal mostro di Firenze nell'87 che si riattivò la FAM la squadra antimostro quella con Anna in sottofondo con il montaggio che praticamente la situazione per lì fu calmata da Pierluigi Vigna che minimizzò l'accaduto però in realtà nell'87 si riattiva la FAM quindi chi ha spedito quella videocassetta con Anna la canzone Anna e si dice dei dettagli che solamente il mostro poteva conoscere quindi sicuramente è stato trattenuto qualcosa a livello di informazioni questo pure Angelo è adiacente a quello che ha scritto qui quindi potrebbe essere una correzione in qualche modo e queste sono comunicazioni ora sempre tornando al al mostro di Firenze succede un qualcosa come abbiamo detto sparisce fino al 1981 nel 1981 prima del 6 giugno ok questo è quello che viene scritto dal professor Seppilli che ricorda quando qualcosa è accaduto anche in Germania no prima è un delitto tipicamente anglosassone risponde il professor questa è un'affermazione che si sente spesso nel caso del mostro di Firenze io mi ricordo il documentario di Brunotti adesso sto andando a memoria quindi non vorrei fare qualche errore di Lucarelli il documentario di Brunotti che inizia con le parole non qui non da noi dico bene? esatto esattamente quindi il mostro di Firenze è un qualcosa che appare decisamente fuori contesto nella storia italiana anche perché ad oggi continua ad essere famigerato perché un serial killer di quel tipo che è tipicamente anglosassone appunto e questo non è stato notato per dire da Francesca Micone questa è una cosa che è discussa da tanto tempo dagli anni 70 dall'inizio dal 1281 come ho visto poc'anzi e secondo me anche questo è importante Angelo perché il mostro di Firenze per la storia italiana è un qualcosa che è fuori contesto comunque nel gennaio 1981 Angelo quindi a pochi mesi da Scandicci esce Maniac in America in America questo è un poster originale americano vedi venerdì 30 gennaio Angelo questo è un argomento che è stato lo voglio specificare è stato adattato dal mitologico utente De Cotia si il collegamento quindi di Maniac è un collegamento che viene fatto diretto con un film e io ti ricordo sempre il parallelismo con l'esorcista ok quindi qua abbiamo due film uno del 74 e uno dell'81 nel 74 nella stessa settimana c'è il diritto di rabatta esorcista nell'81 quando in America al 30 di gennaio esce questo sì nel 81 succede qualcosa di importante ora questa è una storia che ha trattato benissimo mi permetto di sottolinearlo anche Antonio Segnini nel suo blog il titolo è tratto da un articolo così brutto così cattivo che eccolo qui che adesso troviamo La Nazione Angelo domenica 30 agosto 1981 siamo esattamente a cavallo tra Scandici e Caleggiano sì quindi è quello è l'anno che vede due delitti del mostro di Firenze uno poi per quella che sarà la storia del mostro fuori stagione quello del 22 ottobre fuori stagione esatto e questo succede domenica 30 agosto 1981 come vedi super cinema il film che ha già terrorizzato l'America quindi già uscito dall'America maniac eccolo qui ha già terrorizzato l'America vi è dato i miei 18 anni e questo è l'articolo dal quale poi prende il nome così brutto e così cattivo ora Angelo io ti faccio notare una cosa dimmi se si vede allora pochi anni fa in un'altra privata ammettevo questo film alcune scene un ragazzo una ragazza in macchina di notte assalita ammazzata con terribile violenza una macchina della cerimonia dello scotennamento il partorale dell'edito di Scandicci qualcuno scorse delle analogie un brividi in più insomma questo prodotto che gioca sulle sue carte poche sulle fettacce di macelleria ma in realtà sì l'ho visto anch'io io questo angelo io questo angelo lo voglio lo voglio specificare cioè questa non è stata un'idea né di amicone né collegata all'esorcista né questo è stato qualcosa che è stato notato dal giornalista adesso ok è una siglato però rpr nel 1981 io lo faccio vedere di nuovo 30 agosto 1981 il film maniac viene accostato al mostro di Firenze questo è un collegamento De Gotia Nino Filastone ha parlato dell'argomento e qua Angelo succede un qualcosa di molto molto simile in realtà a quello che è successo con l'esorcista sembra assurdo però come abbiamo visto il la locandina adesso ok 25 febbraio Corriere della Sera mercoledì 25 febbraio all'Eden per restare in tema paradiso c'è Maniac quindi questa è un'anteprima una prima visione da qua dal 25 febbraio non è più visibile Maniac cioè questa è un'anteprima e basta non c'è più Maniac che uscirà poi dopo l'estate eccolo qui guarda un po' in che data siamo Angelo? giovedì 20 tutto io direi che è abbastanza inquietante se ci pensiamo un attimo un secondo perché Angelo noi stiamo parlando di due film noi sappiamo che Zodiac era un fanatico l'abbiamo visto all'inizio notato anche da Grace un fanatico dei film Angelo possono essere casualità io non posso saperlo però io spero di aver reso l'idea cioè portando degli scontri diretti con l'esorcista per lo meno a livello di uscita di tempistiche e questo Angelo insomma come vedi anche con con Maniac abbiamo un riferimento diretto ora io forse per chi ci segue che magari non ha visto Maniac il protagonista questo è un articolo che si trova sul blog di Francesca Migone o stello volante è stato ripreso l'ha fatto una ricerca che accessorale lo ripeto ma si chiama Ostello Volante è il blog di Francesca Migone e c'è un articolo che è veramente dettagliatissimo in merito questa foto è trattata dalla ricerca che ha fatto Francesco e qua vedi si interrogavano sul perché della violenza perché gli anni 80 sono caratterizzati dall'uscita di questi slasher movie si chiamano il protagonista di Maniac lo ricordo è l'italo-americano Joe Spinell il personaggio si chiama Frank Zito tu l'hai visto Maniac Angelo? io mi voglio fregiare nel dire che i film horror usciti negli anni 80 90 e fine 90 io li ho visti praticamente tutti quelli horror anche perché sono un grande collezionista di film magari qualcuno mi è sfuggito ma io ho visto anche roba tipo basket case non so se tu la conosci la canzone dei Green Day il film è veramente esatto esatto quindi siamo a quei livelli l'alzo ma ne ho visti abbastanza tra cui come vedi Angelo un maniaco che ama sua madre anche qua fu fatto il parallelismo col mostro la figura materna del seno e anche lì ci fu una reazione purtroppo poi nel 1984 qua vedi Joe Spinell il produttore italiano americano dice volevo fare una storia d'amore ma con questa faccia nessuno mi avrebbe dato i soldi insomma ecco questo è Maniac allora Angelo io non mi dilungo ulteriormente dico solo una cosa Maniac il film appunto è visto diciamo è quasi un racconto in prima persona di questo maniaco il personaggio Frank Zito interpretato da Joe Spinell che il film inizia con l'uccisione di una coppia in riva al mare questo assassino terrorizza la città di New York c'è una scena di una coppietta appartata e dalla nebbia si vede questo maniaco che salta sul cofano della macchina io adesso non mi ricordo e uccide i ragazzi con dei colpi di fucile quindi era un film che poteva sicuramente catturare una mente diciamo usiamo un eufemismo particolare come quella del mostro di Firenze la particolarità di questo film è che questo film vede delle escissioni Joe Spinell Frank Zito nel film ecco qua ancora terrore con i manichini questo è un articolo del Corriere della Sera del febbraio 81 quindi poco dopo la prima l'anteprima che c'era stata a Roma a Milano e a Palermo eccolo qui praticamente questo soggetto compiva delle escissioni sulle vittime femminili perché sostanzialmente stava formando una sorta di manichino ok che tra l'altro gli ricordava la figura materna è una cosa un po' forte diciamo Angelo la particolarità è che questo maniaco si scagliava contro la zona pilifera quindi lo scalco che in un'altra sede ma è quello che fa il mostro perché fu notato che il mostro non sembrava avere interesse per per i genitali delle vittime bensì per la zona pilifera e questo secondo me è un qualcosa che rafforza il legame con Maniac Angelo anche qui c'è una particolarità come abbiamo visto Maniac arriva in Italia dopo l'estate ok ottobre in concomitanza con l'omicidio di Karenzano se l'omicidio di Scandicci è del 6 giugno o l'aveva visto in una prima che è una giornata sola a Roma Palermo Milano o il soggetto che ha visto l'esorcista negli Stati Uniti il 26 dicembre del 73 ha visto Maniac anche quello presentato nella prima New York si trova il video su YouTube perché fece molto scalpore chiaramente il film è molto forte è uscito anche quello il 26 dicembre del 1980 quindi Angelo se il mostro di Firenze si è veramente ispirato a Maniac e ha preso qualcosa da Maniac probabilmente non l'ha visto in Italia perché c'è l'omicidio del del 6 giugno dell'81 che vede già la prima escissione del mostro di Firenze è chiaro il concetto devo specificare certo no 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 per me è chiarissimo intanto questo Angelo guarda siamo a ridosso come vedi Vallego domenica maggio 13 73 è morto Zodiac quindi proprio qui siamo lo stavano cercando perché poi fondamentalmente dopo il 74 dall'ultima lettera non ha più commesso omicidi non si è poi fermato del tutto guarda Angelo gennaio 13 1978 spero si legga Zodiac 4 anni dopo quindi gennaio ricordati 29 gennaio 74 lettera dell'esorcista 30 gennaio 78 articolo dell'examiner Zodiac 4 anni dopo cosa è successo al killer nel terrore vedi Angelo come vedi Zodiac lo cercavano e non è più tornato cioè negli Stati Uniti è scomparso e questa è un'anomalia Angelo è un'anomalia e lo voglio sottolineare subito che riguarda anche il mostro di Firenze perché noi stiamo parlando di un altro famigerato soggetto che nell'85 sparisce del nulla esatto quindi come vedi qua le analogie cominciano ad essere abbastanza inquietanti e secondo me non vanno assolutamente sottoludate un cittadino e qui questo è il famoso l'appello dei carabinieri finito sulla nazione quindi Angelo come vedi queste sono analogie che secondo me non vanno sottoludate perché il mostro di Firenze nell'85 scompare esattamente come ha fatto Zodiac questo l'abbiamo visto prima vedi dove è Zodiac lo cercavano che poi sarà quello che la domanda che che sarà fatta anche nei confronti del mostro di Firenze se vuoi vado avanti prego ok adesso innanzitutto vorrei specificare una cosa perché prima poi l'ho nominato Ruggero Perugini e ho fatto vedere appunto ci tengo a a specificare questi punti non sono l'ho detto prima ma lo voglio ripetere non tutti serial killer messaggio sono ossessionati dal messaggiare con la stampa e con gli inquirenti e anzi la maggior parte non lo fa ci sono alcuni che l'hanno fatto questo è fuori discussione ma la maggior parte pensa ad uccidere quindi a soddisfare quello che ha un loro bisogno esatto la loro conclusione e soprattutto Angelo il fine è quello di non farsi prendere è la cosa che purtroppo cioè purtroppo è fortuna che la maggior parte di questi sono stati presi Zodiac non è stato preso il mostro di Firenze l'abbiamo già fatta la parentesi secondo me non è stato preso quindi questo è un fattore comune perché tutte e due hanno comunicato Angelo come detto prima Perugini l'aveva notata la comunicazione del mostro di Firenze secondo me non aveva dati sufficienti e aveva dati sbagliati comprensibilissimo perché non era pre-internet su Zodiac però gli investigatori italiani li avevano accomunati già all'epoca certo non sarà la comunicazione del serio archivio dello Zodiac lo cito a memoria però il mostro ci sta dicendo qualcosa e io ti faccio presente questo la lettera del 1985 è compatibile con uno straniero che vuole comunicare che vuole far capire che è lui ma che non ha padronanza della lingua un'altra domanda se i delitti del mostro di Firenze fossero avvenuti a Valleco a chi sarebbero stati attribuiti? abbiamo dubbi in merito? a un personaggio in particolare dici? a Zodiac ah ok si 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 no no è pacifico questo secondo me se i delitti del mostro di Firenze tu li levi dalla provincia fiorentina se li metti nella North Bayeria negli stessi anni 74 85 ma chi vuole che cercano? cioè non c'è nemmeno da parlarne quindi sono dritti tra l'altro Angelo io faccio notare una cosa e ringrazio questa è tratta dall'emeroteca di insufficienza di prove di Franz Vinci è una miniera d'oro per tutti gli appassionati del caso Angelo questo è un articolo della città del spero si legga non aggrandisco mercoledì 8 agosto 1984 siamo a ridotto di Vicchio ok e Torrente Ruscello Raghetti possono servire a far scompare tracce del crimine compiuto ha anche un significato rituale? c'è sempre l'acqua vicino ai luoghi scelti dal mostro per i suoi delitti ora Angelo come vedi qua poi c'è si nomina la Marina la coschetta di Vicchio e Angelo come vedi questa io lo ripeto è post Leonti Thompson che era quelli che aveva notato che Zodiac colpiva sempre in luoghi vicino l'acqua post no scusa pre perché siamo nell'84 quindi pre Robert Gray Smith in America quindi qualcuno in Italia questo schema l'ha notato ok e soprattutto è pre Francesca Micone che poi ha messo insieme tutti i collegamenti a livello di lettere dopo ci torno brevemente così anzi guarda se non ti dispiace lo faccio subito no prego prego c'è sempre l'acqua vicino ai luoghi scelti dal mostro per i satelliti siamo nell'84 ora Francesca Micone noterà questi elementi questi collegamenti all'acqua letterari che sto per far vedere molto dopo il 1984 e faccio un esempio questa è la lettera di dedicazione di San Francisco ok ho ammazzato il tassista su Washington e Maple l'abbiamo trattato l'altra volta no Washington come vedi qua sottolineo il Wash ok nemmeno un mese dopo quindi parliamo del 13 ottobre questa il 9 novembre arriva questa scusate non ho scritto ma ho washed my pen come vedi qua c'è una penna con un finale che è un coltello insanguinato si vede Angelo si si washed quindi non è nemmeno un mese dopo c'è il richiamo a washed ricordo che è lo stesso soggetto che a Lake Briessa lega le vittime con delle corde stand di biancheria eccole qua plastic clothes line sono quelle originali queste sono quelle originali Angelo sono vedi official evidence quindi sono prove queste prove è proprio ufficiale è dello stesso soggetto che nella stessa giornata se ti ricordi fa la chiamata alla polizia da questo telefono la cabina è questa è il telefono staccato dal car wash eccolo qua car wash che come ben ricorderai l'altra volta ho fatto vedere questa Angelo te la ricordi questo è reso moderno che avevo detto che questo è il Sankey Landry Building ho trovato nel frattempo l'ho cercato appositamente la foto dell'epoca eccola qua si legge sempre laundry lavanderia la cabina telefonica Angelo era qua dietro qua c'era il car wash adesso non c'è più nella cabina telefonica nel car wash questo c'è ancora che è come l'hai visto nella foto precedente ecco qui lo potete trovare guarda se chi vuole va all'indirizzo su street view lo trova poi ricordiamoci il parallelismo col mosto dell'acqua ancora qua l'abbiamo visto prima sono stato spazzato via dalla pioggia quella lettera l'avevi fatto vedere anche l'altra volta esattamente ancora questa è ti ricordi che ho nominato il Mikado l'altra volta Angelo mi ero soffermato sull'esorcista però avevo detto che già l'aveva nominato Zodiac questa è presa dalla lettera la Little East Letter e come vedi qua si vuole torturare gli schiavi che lo stanno aspettando in paradiso paradiso e come vedi qua ascolterò ascolterò le loro richieste per l'acqua si legge la sorta si e riderò a loro quindi lui ascolterò ascolterò le loro richieste dell'acqua è una frase ma è io non so se ti avevo già fatto questa domanda ma perché secondo te è così fissato con l'acqua Angelo se me lo chiedi ci sono abbastanza elementi forse un professionista ti direbbe è una firma ok secondo me ci sono abbastanza elementi perché i riferimenti sono dei luoghi dei nomi nelle lettere come vedi c'è una marea ecco una marea di riferimenti all'acqua secondo me abbiamo abbastanza elementi per dire che questa è una compulsione del seriale zodiac perché io Angelo lo ricordo il video del micato è un uomo che affoga ah ok caro Melvin sto annegando te lo ricordi caro Melvin che annegava caro Melvin sto annegando e qua ecco come dice sempre come dico sempre sono crack proof ennesimo rivimento waterproof Melvin sto annegando allora sicuramente la firma del micato la firma del micato è relativa eh firmato vostro il passaggio del micato è un uomo che sta annegando e è lo stesso uomo che annegava cinque anni prima quindi Angelo abbiamo i mezzi secondo me la sufficiente quantità di elementi per dire che è un disturbo è una compulsione è una firma è qualcosa che ha a che fare con la persona dietro quei delitti perché bada bene bada bene che eh questi elementi era difficile metterli insieme nel 1969 e troppo ha fatto eh Gray Smith nel 1986 è una cosa che è stata notata anche in Italia come hai visto dall'articolo di prima certo ed è una cosa secondo me un lavoro di ricerca eccezionale che ha fatto Francesca Micone che ha messo insieme tutti questi riferimenti acquatici tra virgolette eccolo qua questo potrebbe essere l'ennesimo riferimento se pensiamo a un personaggio che conosceva la lingua italiana vedi che è sottolineato love si se noi sottolineato Paul love se noi andiamo a vedere il dizionario collins del 91 e cerchiamo riferimenti al termine love ecco qua lavabiancheria wash 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 sono tutti wash lavaseggo sì ecco qua quindi questo è un dizionario inglese quindi Angelo secondo me è una compulsione è una firma del soggetto è un gioco che fa con gli inquirenti quando firma quella lettra come un uomo che affoga e a posto qua vi faccio vedere bluminis tagliallo submarine quindi ecco sull'acqua ci siamo quindi torniamo al al mostro viene notata la presenza dell'acqua anche nei delitti del mostro tra l'altro a livello di curiosità Angelo arrivano anche questa del giorno dopo e questa è una curiosità Angelo niente 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 di più però alla ricerca di un perché con lo zodiaco la cosa interessante è che se leggi un anonimo segnala una serie di coincidenze assai strane basate su segni dello zodiaco sì ora Angelo gli anonimi in questa storia sappiamo che sono tanti magari il 90% sono mitomani magari qualcuno si stava divertendo non lo possiamo sapere di certo però abbiamo due giorni di fila acqua e zodiaco sono suggestioni Angelo io me ne rendo conto certo sì sì però questi elementi a breve a breve non sono più suggestioni perché oltre a essere notati ripropongo dai media italiana italiani nel 1984 il 2020 chiedo scusa è un anno piuttosto particolare e e per il mostro e per Zodiac per Zodiac perché l'abbiamo accenato l'altra volta viene decifrato lo z340 dopo 50 anni ricordi? quello del il codice dove diceva che non aveva paura della camera perché aveva i suoi schiavi in paradiso ma nel 2020 è stata fatta una ricerca meravigliosa da Valeria Vecchione Paolo Gocchi e Martino Rossi che ha portato alla luce Angelo un qualcosa secondo me di lavoroso questa ormai è la mitologica che sappiamo essere stata usata dal mostro di Firenze ora Angelo questo per me è un terreno un po' minato innanzitutto perché Valeria è una cara amica ed è il suo lavoro e non voglio assolutamente dire inesattecce quindi spero di rendere la cosa al meglio possibile io no anche perché Valeria è stata invitata la quinta ammissione è andata a tutte le parti fuori che da me però va bene uguale insomma allora la scoperta di Valeria è stata secondo me importantissima allora Angelo noi io perlomeno sono sempre stato curioso ma penso chiunque di questa questa è l'unica comunicazione ufficiale almeno ci è dato sapere questo del mostro di Firenze e chiaramente è relativa al stiamo al 9 settembre 1985 ed è la lettera che il mostro di Firenze certamente lui purtroppo lo sappiamo per il magro contenuto invierà a Silvia della Monica allora Angelo io personalmente ho sempre avuto una curiosità morbosa per la provenienza delle delle lettere di questa di questa busta e finalmente nel nel 2020 è stata scoperta la provenienza delle lettere di questa rivista ora era una sorta di sacro gral per qualsiasi mostrologo chiamolo così qualsiasi ricercatore del caso ma non solo perché gli inquirenti gli inquirenti la prima cosa che hanno fatto o una delle prime cose che hanno fatto quando è arrivata la lettera è stata questa adesso qua lo vediamo a colori ed è tratto dal video di Valeria Vecchione che si trova su YouTube hanno fatto questo hanno scollato le lettere dalla busta e hanno cercato tramite retro di capire la rivista per esempio ecco c'è un passaggio del processo Pacciani in cui l'avvocato Bevacqua nomina se ti ricordi il nome è Zoran tipo questo non me la ricordo per dire la verità è qui sì c'è un passaggio in cui Bevacqua dice parlando del cercando è un la deposizione di Giorgio Trinca il perito della scientifica sto andando a memoria ne sono abbastanza sicuro del perito della scientifica e per capire appunto la provenienza di questa lettera sono state scollate appunto tutte le lettere dalla busta come vedi Angelo c'è solo una particolarità questa questo è il della della Monica Silvia ok questo è il retro del della come si può ben vedere è l'unica parte presa per intera dal mostro sì ed è la parte che poi ha consentito a Valeria di trovare la rivista ok perché io Angelo questo ci tengo a specificarlo subito signori un attimo che fai conto non esiste ok tu prova a rintracciare la rivista tramite le singole lettere è impossibile è impossibile Valeria per la sua stessa ammissione non ce l'erebbe mai fatta quindi Angelo noi dobbiamo pensare che chi ha compilato questa lettera è qualcuno di estremamente meticoloso che è stato attento a qualsiasi dettagli nella stessa deposizione viene specificato che su questa lettera non c'è alcuna traccia biologica né in fronte né tracce biologiche ora Angelo se io ti chiedo oggi nel 2021 Angelo senti per Natale mi mani una lettra io la faccio analizzare da un laboratorio e deve essere completamente sterile cioè non deve avere nessuna traccia Angelo io ti assicuro che nonostante CSI internet tutti i dati a disposizione che abbiamo è veramente difficile fare una cosa del genere questo è stato fatto nel 1985 la lettera è il contenuto che ha quindi è ancora più difficile la missione mettiamola così questo soggetto che ha spedito questa lettera l'ha fatto nel 1985 secondo me questo è un indicatore forte sul campo di provenienza di chi ha mandato questa lettera io Angelo adesso voglio far vedere un documento molto raro è un documento del del dipartimento di giustizia questo è è una rarità adesso la trovo la trovo subito spero spero di trovarlo subito perdonami del dipartimento di giustizia eccolo qui allora Angelo si vede purtroppo la qualità quella che ha fatto del mio meglio quindi non te la prendere con me questo fa parte del di un documento destinato appunto alle forze di pulizia chiaramente del dipartimento di giustizia relativo al caso Zodiac qui abbiamo delle comunicazioni ecco questo è relativo per esempio alle alla lettera di alle lettere che arrivarono dalla confessione di Jerry Joe Bates di Rivers del 66 come vedi qua c'è qualcosa di interessante questa è parliamo di una lettera del 69 del Chronicle this is the Zodiac speaking Angelo questa è quella relativa a Paul Stein vedi con il reperto ricordiamo che l'ultima lettera di Zodiac di un omicidio accertato di Zodiac quindi quello di Paul Stein ha un reperto che è un pezzo di camicia insanguinato di Paul Stein ok è stata spedita al laboratorio del San Francisco Police Department è stata processata per il DNA e non sono state trovate cellule vedi e Angelo questo purtroppo è questa Angelo parliamo del 1969 sai che vuol dire questo che chi ha scritto queste lettere era decisamente avanti sì però questa cosa va in contrasto sulle ultime ricerche fatte perché dicono che sulla busta è stato trovato il DNA un sossetto aspetta è una questione recente ed è relativa alle tre lettere inviate ai magistrati dove sono state trovate tracce di saliva te lo ricordi è quella di una testa vi basta con il proiettile ti ricordi? certo sto parlando di queste in realtà sulla lettera inviata della Monica quindi pochi giorni prima rispetto alle lettere inviate ai magistrati non è stato trovato niente ed è perfettamente in linea con questo ok quindi secondo te le lettere inviate ai tre magistrati non ha nulla a che vedere con la stessa non è la stessa persona? Angelo io in primis dico questo lo spero allora ci tengo a specificare il concetto secondo me se vi è la possibilità va fatta assolutamente una ricerca un'analisi magari l'hanno già fatta io questo non lo so non so nulla va fatta assolutamente una ricerca per rintracciare tramite DNA è una cosa secondo me fattibile nel 2021 2022 fattibile per rintracciare chi ha scritto quelle lettere è una cosa che si può fare se c'è saliva se c'è DNA si può fare quindi va assolutamente rintracciato chi ha scritto quelle lettere ora Angelo permettimi un parere personale io sono abbastanza scettico che quello sia il DNA del mostro di finanza lo spero con tutto me stesso perché se in questo caso si risolve tramite il DNA insomma siamo tutti contenti io sono scettico per un semplice motivo io devo sottolineare che la persona che ha mandato quella lettera a Silvia della Monica con quel contenuto quindi una lettera abbastanza difficile non ha lasciato tracce Angelo non c'era DNA non c'era niente ora se pochi giorni dopo mandando mandando tra l'altro consegnando forse è più giusto quelle tre lettere ha fatto un errore tanto meglio Angelo sicuramente va rintracciato chi ha scritto quelle lettere di questo sono certo può dare solo che indizi seri e importanti anche anche qualora si rivelasse completamente estraneo il soggetto che ha spedito quelle lettere questo penso sia comunque importante come risultato quindi Angelo io torno alla lettera e faccio presente faccio presente questo che chi ha scritto quella lettera sicuramente qualche conoscenza tecnica l'aveva ora come hai visto questo Della che ha molte sé l'abbiamo visto prima il retro della rivista ha permesso a Valeria Vecchione di risalire alla rivista ora Angelo io ti chiedo un uomo stiamo parlando del mostro di Firenze così meticoloso da fare tutto questo se avesse scelto lettere singole ok e non avesse voluto desiderare che i clienti rispondano la rivista che hanno provato subito tu al posto suo che avresti fatto? cioè se tu fai conto devi fare questa lettera e scegli come ha fatto qui lettere singole da una rivista basta due tre riviste tu stai pur certo che senza questo nessuno nessuno sarebbe mai arrivato alla provenienza del giornale nessuno Angelo è impossibile è impossibile perché tu tramite questo non ci arrivi no infatti sono pazzi e noi dobbiamo considerare che un soggetto così meticoloso lascia questo lo prende intero allora Angelo il pensiero secondo me il pensiero il pensiero che secondo me è piuttosto per me è una certezza io lascio sempre uno spiraglio di immagini per me è una certezza il soggetto voleva voleva che gli inquinenti risalissero tramite questo suggerimento questo indizio alla rivista ora Valeria è riuscita appunto tramite quel della a risalire a questa rivista Angelo questa è gente numero 51 ed è in edicola la settimana che va dal 14 al 20 dicembre 1984 io guarda mi ricordo di averla anche avuta questa rivista con quella reguida col bambino beh se riesci a trovarla Angelo questo adesso è un pezzo non dico da collezione ma sicuramente importante e ti assicuro che è introvabile quindi se riesci a ritrovarla la venderò a un milione di euro non lo so però qualche appassionato che te la prende lo trovi insomma io forse il tema la terrei insomma e anche perché questa rivista Angelo è una sorta di macchina del tempo permettimi è un paragone forse fuori luogo ma noi stiamo parlando col mostro di Firenze cioè noi nel 2020 abbiamo in mano qualcosa che aveva e ha catturato l'attenzione del mostro di Firenze ok Angelo questa in realtà sulla copertina c'è scritto 21 dicembre ok ma è forviante perché in realtà è in edicola dal 14 al 20 dicembre quindi il numero 21 dicembre è il il giorno in cui arriva il numero seguente perché funziona così chiaramente questi periodici quindi questa questa rivista è in edicola dal 14 al 20 dicembre il 20 dicembre io non ti annoio ulteriormente sulla data ma ti dice qualcosa chiaramente immaginano il 20 dicembre esatto ti dice qualcosa in merito a Zodiac sì 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 se ricordo bene se ricordo bene sì quindi noi dobbiamo prendere atto perché questo è un fatto incontrovertibile che il mostro di Firenze ha utilizzato una rivista in edicola tra il 14 e il 20 dicembre quindi a cavallo con una data che è molto significativa per qualsiasi studioso ricercatore del caso Zodiac ok a me personalmente ha fatto venire brividi sì sì certo ora che mi ci ha fatto pensare sì sì perché stiamo parlando del 20 dicembre ora Angelo io a questo noi abbiamo parlato del Della prima ok io a questo aggiungo una cosa il Della che abbiamo visto prima intero con molte ser dietro è questo ok questo è stato preso intero ora Angelo l'articolo mi sembra piuttosto chiaro cari dolci acque non vi riconosco più qui è finito il sogno della mia infanzia quindi Angelo oltre ad avere un riferimento allora però aspetta qui mi dice sembra che lì è stata presa la E la Della e la Z te lo confermo te lo confermo il mostro di Firenze appreso da questo articolo di Piero Chiara l'autore è Piero Chiara eccolo qui intitolato cari dolci acque non vi riconosco più qui è finito il sogno della mia infanzia ora come vedi qua Angelo c'è il lago maggiore quindi Angelo noi abbiamo ad ora ricordi io lo ricordo lo sottolineo Valeria Vecchione è risalita la rivista tramite questo Della che è preso per intero lo faccio vedere perché voglio essere il più chiaro possibile ed è questo che dietro ha molte serre molte serre molte serre ok la è questa la scritta in realtà sarebbe questa molte serre vedi molte serate ah ok con pasto Angelo è una pubblicità degli orologi Zenit io adesso nemmeno a farla apposta non voglio tediarti naturalmente no no vabbè certo diciamo senti ascolta ti volevo chiedere una cosa quanto tempo pensi di parlare ancora perché se abbiamo passato abbondantemente le due ore e non vorrei tediare i nostri i nostri ascoltori magari se abbiamo se abbiamo finisco con la lettera finisco con la lettera e chiudo dimmi tu no no possiamo anche fare così magari facciamo un'altra puntata se tu hai materiale Angelo io insomma innanzitutto ti ringrazio e cerco di finire con la lettera guarda corro ti prometto che corro ma vorrei no no ma non voglio non voglio che tu corri ti ho semplicemente chiesto se vuoi fare un'altra puntata si può fare punto sono a disposizione chiaramente Angelo però non ti dico che ho scritto gli argomenti magari ecco risponderò alle domande se arriveranno delle domande ecco sì da chi ci segue ecco lo faccio lo faccio molto volentieri finisco brevemente sulla lettera quindi questa è stata necessaria per l'identificazione della rivista io faccio presente questo Angelo dall'articolo che abbiamo visto cari dolci acco eccolo qui cari dolci acco non vi riconosco più qui è il filo del sogno della mia infanzia questo è preso dal pdf della rivista che adesso è disponibile per chiunque da insufficienza di prove e Zodiac prende questa E Angelo questa E è l'ultima E di Firenze Acque Firenze 20 dicembre Lago Angelo questa lettera come dice Valeria secondo me parla e mi dispiace ma sta parlando sta parlando del di un altro serial killer di un altro serial killer tra l'altro Angelo c'è una curiosità che ha notato sempre Valeria come vedi questo non è un 1 Angelo questa è una I ok? sì esatto il 50-100 questa è una I come vedi qua c'è qualcun altro che non scriveva non scriveva scriveva una non scriveva un 1 scriveva una I detto questo quella I per esempio quella I viene da una pubblicità che apparentemente non non significa molto lo trovo subito lo trovo subito perdonami eccolo qui Villa Liberty è questa Angelo ok? è una pubblicità cioè è stato sempre arma del delitto quindi un paio di forbi dietro a questa pubblicità lavato pulito ora Angelo come vedi come vedi stiamo stiamo sempre lì e tu mi dirai e allora il retro della rivista sono coincidenze in realtà Angelo lo faccio brevemente vedere come vedi questi sono tutti i caratteri uguali ok? tutti uguali tranne qua qua cambia completamente l'argomento esatto e faccio come vedi la CA è diverso e la E è diversa ok? io vado un attimo è un una pubblicità della Polaroid che eccolo qui che trovo subito è sempre nel servizio di Piero Chiara sul Lago Maggiore ok? lui il mostro di Firenze prende CA E da qua eppure Angelo ce n'erano a bizzeffe nella rivista del carattere che piaceva a lui dietro dietro queste lettere dove prende CA E noi troviamo questo Angelo il paradiso degli artisti Piero Valcone un concetto un concetto che era caro anche a Zodiac tra l'altro c'è la strada del lago quindi paradiso lago qua puoi sbizzarrirti con i collegamenti e voglio fare una precisazione come vedi oltre queste ne abbiamo già parlato che sono diverse anche queste Fir N Fir N S R N sono di caratteri diversi ok? e qua secondo me c'è un indizio molto forte che ci fa capire che chi ha scritto questa lettera Angelo il mostro di Firenze stava dando un segnale vedi che sono diverse e vengono da questa pagina che è alla fine della rivista eccolo qua F R N N vengono da qua F ok Toreatore ha trionfato la scala Angelo sai cosa c'è dietro questa scritta? no c'è questo Angelo mi puoi leggere questo pezzo? quella sera i spaghetti non sono venuti a fare quello? sì se stavano in sua auto region non è quando dovrebbero telefonare a quei due tedeschi così appetitosi risposta ti fermo ti fermo quei due tedeschi così appetitosi e quanto ancora possiamo parlare di coincidenze Angelo? mi riferimento a 1883 cioè è molto inquietante specialità dalla Germania capisci? c'è qualcosa che decisamente decisamente parla in questa lettera assolutamente sì c'è qualcosa che tra l'altro l'ultimo esempio poi chiudo ecco questo non è abbiamo detto non è un 1 è una I allora dice beh perché ha preso una I da Villa Liberty da Area Lavatrice non aveva non aveva numeri guarda Angelo lui i numeri ne aveva quanti ne voleva per esempio lui il 50-100 lo prende da qui dorato perché è oro quel numero nella stessa pubblicità quella stessa pubblicità Angelo questo è un 1 sì è la stessa pubblicità come vedi sì lo prende l'altro continuo sì è l'altro lato Angelo qua secondo me questa lettera questo lavoro l'ha fatto Valeria quindi lo spiega sicuramente meglio di me questa lettera parla e parla di 20 dicembre parla di paradiso parla di acqua tanta acqua parla di lavare anche nel lo ricordo c'è un errore doppia consonante trattino a capo Angelo questa lettera che lo ricordo è l'unica cosa che noi sappiamo essere certa del mostro di Firenze il mostro di Firenze certo conteneva il lembo io lo azzardo io lo azzardo questa lettera parla di Zodiac e secondo me quello che il mostro di Firenze è il proseguio in un altro paese con una padronanza che sicuramente non è quella della lingua inglese soprattutto noi ricordiamo Emma il mostro non comunicava non mandava lettere mettiamo il caso in cui un assassino spietato freddo meticoloso che non è stato catturato quindi a piede libero come Zodiac arriva in Italia Angelo secondo me non si comporta assolutamente in maniera differente da come si è comportato il mostro di Firenze cioè non poteva mandare una una lettera con la croce col mirino non era un ago nel pagliaio a Firenze non ci voleva a trovarlo a quel punto io Angelo se non hai altre domande io concludo perché io infatti concluderei invitando naturalmente i nostri spettatori a fare tutte le domande possibili immaginabili con le quali poi faremo un video citando anche io taglierò poi i pezzetti di fare gli screenshot dove io farò anche gli screenshot e il dottor Trincheri risponderà a tutte le vostre domande anche questa volta abbiamo superato le due ore e mezzo quindi dovete altro che ringraziare non il mio di lavoro perché io fondamentalmente non ho fatto assolutamente nulla se non rimanere in quasi silenzio religioso quasi perché questa volta ho contestato un po' di più ma mi sembrava giusto anche farlo per diritto doveroso per diritto di cronaca però ripeto se qualsiasi cosa voi vogliate chiedere al dottore Daniele per favore a Daniele a Daniele ok a Daniele togliamo queste cose no perché poi le lauree sono di battaglia no vabbè magari si è laureato in altra cosa alla Cicchigori alla Cicchigori sì esatto quindi se volete fare domande fatele sotto e noi lui più che altro vi rispondere sul mostro vi posso rispondere anche io su Zodiac un po' meno anche quasi niente perché conosco la storia l'ho approfondito ultimamente con Daniele però non sono naturalmente alla sua altezza altrimenti non sarebbe venuto lui ve l'avrei raccontato io io vi ringrazio infinitamente ringrazio Daniele l'amico Daniele noi che è un dottore che si offende perché ha fatto un lavorone di quelli magistrali maestosi mastodontici come si vuol dire e niente io vi rimando alla prossima puntata dove parliamo di Pietro Pacciani con alcuni ospiti che non vi dirò adesso ma farò le anteprime su Youtube e niente ringrazio assolutamente Daniele per aver partecipato e aspettiamo naturalmente le vostre domande che spero siano tante per poter imbastire un'altra missione Daniele grazie mille anche con la maglia che sembra un giubbotto no fa freddo ho messo la camicia la carte Cobain volante ma dove sei in camera tua? no non è la mia è una stanza è una stanza però ti assicuro che fa freddo la camicia la carte Cobain l'età avanza non lo so non è riscaldamento no in realtà si ma lo tengo spento non lo so non lo so perché effettivamente per risparmiare ragazzi la gente farebbe farebbe di tutto ma fai bene va bene buonanotte a tutti sono quasi due ore e quaranta ciao buona ci vediamo presto grazie Daniele grazie mille buonanotte grazie